Buongiorno a tutti, benvenuti e benvenuti presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali per questa giornata di studi così importante che è stata pensata da tempo e con cura e che sono sicura aprirà soprattutto per i più giovani ma non solo prospettive di ricerca non già note. Quindi oggi ci troviamo intorno al tema storia e rivoluzione digitale, come cambiano le fonti e il lavoro dello storico, degli storici e delle storiche, visto che è anche la giornata internazionale della donna. Do i saluti istituzionali del direttore Lorenzo Bertuccelli, che per alcuni minuti è impegnato in un impegno di Ateneo ma ci raggiunge tra poco e che è anche organizzatore di questa giornata insieme al dottor Manfredi Scanagatta, che ringrazio sin d'ora. Non rubo tempo perché il programma è molto ricco, molto intenso e do subito la parola a Marcello Ravveduto, professore associato di storia contemporanea presso l'Università di Salerno, docente di Digital Public History, già membro del direttivo dell'IPH, l'Associazione Italiana di Public History, autore di studi di riferimento sui fenomeni mafiosi e naturalmente in ambito di Digital and Public History. Oggi Marcello ci farà sicuramente un'introduzione appunto per darci alcune coordinate fondamentali. Abbiamo tra i nostri studenti, studenti del primo anno di storia contemporanea, abbiamo studenti del Master in Public Digital History, abbiamo dottor Andi, quindi grazie davvero Marcello per il tuo intervento e a tutti e tutti i relatori fin d'ora. Buoni lavori di questa giornata. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie a Manfredi che ha organizzato la giornata, ma anche al direttore Lorenzo Bertuccelli, tenendo presente che ho avuto il piacere di insegnare in questa università a contratto per cinque anni alla magistrale di Antropologia e Storia e quindi per me è sempre bello tornare a Modena. Io di solito parlo sempre a braccio e questa volta non avrò slide perché mi voglio concentrare sostanzialmente sul tentativo che farò di carattere molto teorico. In realtà io non, a differenza di, credo di come faranno molti colleghi nel corso della giornata, non mi occuperò questa volta sostanzialmente di pratiche. Le pratiche rimarranno sullo sfondo e saranno ovviamente oggetto di altre relazioni. Voglio provare, almeno appunto provare, a fare una riflessione teorica sulla fare storia nel presente digitale, partendo dalla mia posizione di docente di Digital Public History non in un corso di letteratura, diciamo di filologia o di storia, ma di scienza e la comunicazione. Perché stando con gli studenti della generazione Z ho potuto sperimentare l'affermazione e la contraddizione del pensiero critico nella velocità dell'ambiente digitale. Partiamo con uno slogan provocazione. C'è il titolo di un libro di Carlo Greppi, che è La storia ci salverà, pubblicato nel 2020. Io lo trasformo, questo titolo, mettendoci un punto interrogativo. La storia ci salverà e aggiungo a questo elemento una trasformazione ulteriore. O saremo noi a dover salvare la storia, in quanto storici o studiosi di storia. Questo elemento parte dalla condizione, secondo me, da una riflessione che noi svolgiamo poco, è di guardare allo storico come un medium. Lo storico di fatto è un intermediatore del sapere. Quindi è stato a lungo un corpo intermedio che ha subito, come tutti i corpi intermedi, nella trasformazione della società e della rivoluzione digitale, una crisi. Ha sempre occupato lo storico un ruolo centrale tra sapere e popolo, anche in virtù delle qualità narrative della sua scienza. Con ogni probabilità è dalla storia che nasce la letteratura, se pensiamo ad Omero. È dal rapporto tra mito e storia che si genera, tra mito e letteratura che si genera la costruzione di una storia. Secondo me è proprio questa centralità che ha avuto lo storico nel corso del tempo come corpo intermedio nella trasmissione del sapere che dà una valenza politica al suo ruolo. Per me questo è importante, perché la crisi della storia, almeno in Italia, è in sincronia con la crisi della politica. Non è un caso che Gallerano, il primo che si occupa di uso pubblico della storia, guardando alla public history come orizzonte del quale fare storia nel presente e soprattutto fare storia come dimensione dell'uso pubblico della storia, si riflette all'interno della crisi che sta avvenendo in Italia tra il 1989 e il 1994 che sta mutando il rapporto tra storia e politica, perché sta mutando il rapporto tra società e politica. Gallerano assegnava in quel caso un ruolo importante ai media come costruzione di un nuovo linguaggio nell'intervento pubblico, nella costruzione di un uso pubblico della storia. Ovviamente non si riferiva solo ai media, ma considerava i media uno degli elementi centrali di questa trasformazione. Più tardi Stefano Pivato, in un libro chiamato Vuoti di memoria, ci ricorda che l'uso pubblico della storia rappresenta una categoria che si è enormemente dilatata. Quindi nel giro di 10-15 anni quella categoria che Gallerano utilizzava per dire che c'era una crisi della storia legato al rapporto alla nuova alleanza che si era stabilita tra politica e media che metteva con le spalle al muro la storia e i suoi usi pubblici si è enormemente dilatata. Soggetti politici, operatori de media, opinionisti della carta stampata hanno prodotto una ipertofia della informazione storica destinata alla formazione di un nuovo senso comune che poggia sui generalizzati vuoti di memoria delle giovani generazioni. E qui è un altro elemento importante. Tutta questa riflessione nasce intorno alla preoccupazione che le giovani generazioni non siano in grado di fare una differenza tra trasmissione del sapere storico e uso pubblico della storia cioè la storia utilizzata per costruire consenso politico o per costruire consenso civile o per costruire narrazioni identitarie. E mentre dice Pivato la baby boom generation è cresciuta fra gli anni 60 e 70 del 900 in un dialogo continuo con la storia e la memoria del nostro paese e fa riferimento alla resistenza alla seconda guerra mondiale al fascismo e elementi costanti che creavano identità, cittadinanza attraverso il racconto e la trasmissione del sapere storico del passato della storia d'Italia per contro lui afferma nel primo decennio del 2000 che nel trentennio che si è vissuto cioè a partire dagli anni 80 c'è un rapporto precario con il passato per i giovani nati negli anni 80 ovviamente oggi dovremmo trasportare questa visione ai giovani nati dopo il 2000 per i giovani nati dopo gli anni 80 si vive stabilmente in una dimensione di presentismo la storia è un frammento spesso ignorando che sta nelle pagine di un manuale e non contribuisce a formare quella che comunamente si chiama coscienza civile ecco questo è uno degli altri un primo elemento di passaggio importante del perché io vi ho detto che il rapporto tra politica e storia è un rapporto centrale per formare la trasmissione del sapere cioè il ruolo dello storico con una valenza politica perché la storia è parte centrale della formazione della coscienza civile e quando viene a mancare questo elemento si crea un vuoto e questo vuoto da chi è stato colmato? e torniamo di nuovo al punto è stato colmato dai media divenuti di fatto il nuovo corpo intermedio cioè quelli che hanno occupato lo spazio che un tempo era in mano agli storici e a tutti gli operatori potremmo dire che trasferivano il sapere come ha occupato questo spazio? questo spazio l'ha occupato e lo stia trasformando il trasferimento di sapere in una narrazione di immaginari che ristrutturano il senso comune collettivo che cosa è accaduto? che le narrazioni dei media sostituiscono la storia nel ruolo di pilastro della scienza politica l'alleanza tra politica e media genera forme di potere slegate dal trasferimento dei saperi connesse sempre più alla ritorica delle competenze sentiamo spesso dire il saper fare il saper fare ha a che fare con la competenza non con la conoscenza e nel saper fare ci sono due parole sapere e fare e molto spesso si dà una connotazione forte al fare dimenticando la necessità del sapere questo è un elemento importante perché è importante il rapporto fino a qui raccontato questa triangolazione tra politica storia e media perché come scrive un importante filosofo Luciano Floridi che la storia nasce quando l'uomo prende coscienza di dover raccontare di dover dare formazione alla propria identità per definire il suo ruolo nel regno animale e nell'ecosistema e quindi allora inizia la società dell'informazione vi dicevo prima di Omero nasce l'esigenza di dover informare e costruire identità sulla presenza dell'uomo nella storia e questo ci racconta quanto la storia sia già sin dall'inizio legata appunto al rapporto tra mito e letteratura e dunque tra narrazione e immaginario i media hanno dunque occupando uno spazio intermedio perché è loro natura stare in mezzo modificato il rapporto tra storia e politica che prima era un rapporto parallelo e complementare che ora invece è coincidente ed escludente per questo credo che prima ancora di parlare di storia e rivoluzione digitale sia necessario riflettere su come si è cambiato il ruolo dello storico e della narrazione storica nell'evoluzione dei media cioè abbiamo mai riflettuto come il passaggio dal sistema broadcast al sistema social cast abbia inciso sul rapporto tra emittente e ricevente e dunque sullo storico come emittente e il pubblico come ricevente spesso ci fermiamo sugli effetti di quello che sta accadendo ed è accaduto senza entrare nel merito della natura di questa trasformazione che sottrae all'emittente in questo caso potremmo dire allo storico nel nostro caso appunto il controllo del messaggio il broadcast nasce da questo dalla volontà di controllare il messaggio c'è un emittente che può essere un editore una televisione un giornale e ci sono i riceventi il sistema di comunicazione invece nuovo quello di tutto a tutti e del tutto a tutti attraverso la pratica della condivisione il montaggio dei contenuti cambia tutto perché questo tutto che torna perché il digitale è il perfetto contenitore non neutrale ovviamente della mutazione del sapere storico nella postmodernità ovvero il dominio delle narrazioni individuali e collettive è passato in mano all'interpretazione rispetto alla passato in mano all'interpretazione rispetto alla fonte per quanto scientificamente autorevole la fonte viene dopo l'interpretazione all'interno della trasformazione della storia nella postmodernità l'incidenza del postmoderno nelle scienze umane ha sottratto autorevolezza alla fonte per dare forza all'interpretazione e quindi se ogni interpretazione secondo la formazione del postmoderno e portandola al paradosso estremo se ogni interpretazione è plausibile la storia è sottoposta alla logica dei media che in quanto intermediatori del sapere hanno occupato lo spazio della storia con format narrativi di intrattenimento più avvincenti e persuadenti dei fatti il che significa che l'immaginario della storia cioè il racconto stesso della storia precede la storia in quanto in quanto trama di fonti di fonti e diviene questo questa interpretazione l'elemento costituente del racconto sostituendo la fonte stessa c'è dunque un processo che non riguarda solo la scienza storica ma molte scienze la scienza in genere c'è un processo di relativizzazione dei fatti e che ci porta a guardare a come la storia nella postmodernità sia soggetta alla postverità guardate la postverità non è la menzogna e non è nemmeno l'inesistenza della verità la postverità è l'affermazione che i sentimenti eccitati dal senso comune della storia siano più importanti dei fatti subordinati al sentire politico o agli orientamenti culturali individuali e collettivi o di gruppo insomma come vogliamo dire questo perché i media hanno occupato lo spazio che mediano intermediario della storia egemonizzando il rapporto con la politica dunque è questa forse una delle chiavi della marginalizzazione degli storici della storia nel presente e allora quando le convinzioni di una persona sono minacciate da un fatto che individualmente ci sembra scomodo è preferibile contestare il fatto con una propria interpretazione che diventa più importante della verità e capite bene che la storia scompare così no e così intesa la post verità è la negazione della storia perché è una forma di supremazia ideologica che trasforma i fatti in interpretazioni credibili costruite in modo affidabile per plasmare la realtà sulla base di proprie credenze quindi che cosa abbiamo oggi che cosa ci accade di vedere quando parliamo di storia nelle piattaforme digitali in qualche caso noi non siamo più di fronte alla storia siamo a quella che potremmo chiamare una post storia partorita dal post moderno e che non si basa più sulla ricerca della verità ma sulla costruzione di interpretazioni post veritative che hanno trovato nei media digitali il luogo adeguato per la sostituzione e competizione della storia con lo storytelling delle varie storie che girano all'infinito intorno alla trama di buoni e cattivi vinti e vincitori vittime e carnefici e questo forse spiega perché il paradigma di vittimario sia diventato interpretazione prevalente nell'immaginario della storia o di conseguenza nell'industria culturale o è il contrario o noi applichiamo il paradigma vittimario perché si è affermato nell'industria culturale e quindi anche la storia si sta adeguando alle esigenze narrative dell'industria culturale questo è il perverso e rapporto tra media storia e politica dove l'agenda setting dove la spinta dell'opinione pubblica è in grado di ristrutturare attraverso gli immaginari dell'industria culturale anche la domanda della ricerca storica e come tutte le narrazioni che assumono la logica dei media appunto quella della competizione tra vinti e vincitori tra buoni e cattivi tra vittime e carnifici non conta più la verità come dicevamo ma conta da che parte stai in realtà questo questo tipo di questo tipo di divisione a mio avviso è il frutto non solo della spinta del post moderno ma anche della dell'individualismo neoliberale che ha contaminato le narrazioni imponendo il sedio logico come figura prevalente no? ognuno è l'ideologia di se stesso e quello che mi preoccupa in questa fase di trasformazione in cui la storia cambia sulla spinta della post modernità che trova nell'ambiente digitale la sua piena affermazione come luogo delle interpretazioni legittime e credibili e quello che mi preoccupa è che gli storici non tendono di frenare questa valanga ma si spostano per guardare l'evento da una posizione superiore evitando contaminazioni come se non fosse parte della loro vita o soprattutto diffidando quei colleghi che provano a salvare i travolti dal fango ecco questo elemento lo dico perché non basta di fronte a questa trasformazione il fat checking non serve a niente è un pannicello caldo non può bastare mi ha colpito molto che il manifesto on life che è un manifesto sui saperi scientifici e soprattutto sulle scienze umane all'interno della trasformazione della rivoluzione digitale ancora una volta portato avanti da Luciano Floridi in sede europea con tanti altri studiosi dell'Unione questo 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 manifesto non è firmato non c'è in questo manifesto non c'è nessuna firma di uno storico abbiamo assegnato l'idea che la riflessione sulla storia sul cambiamento della storia come scienza centrale delle scienze umane perché intorno a lì si formano le narrazioni sia in mano ad altre discipline e non agli storici dal punto di vista della riflessione sulla rivoluzione digitale perché non dovete guardare in questa stanza dove è riunito il gruppo nazionale che si occupa di queste cose si tratta di una minoranza questo è un percorso che non può fare una minoranza questo è un percorso che deve innervare l'intera disciplina l'intera disciplina storica nelle sue diverse cronologie in maniera diacronica quindi rispetto al fare storia nel presente digitale abbiamo in questo momento due modalità che si stanno affermando la storia digitale e la storia pubblica digitale che a mio avviso e qui cercherò il conforto dei colleghi anche più esperti e che da più anni si occupano di queste cose io affermo che la storia pubblica digitale però è diversa dalla storia digitale pubblica perché questa differenza non è che voglio fare uno specioso gioco di parole ma secondo me è un campo semantico che riguarda le narrazioni digitali in grado di raggiungere un pubblico non necessariamente in forma di progetto né di coinvolgimento diretto il cosiddetto crowdsourcing ma anche ma come come semplicemente condivisione di contenute da parte di utenti non specialisti il cui interesse principale non è la diffusione della conoscenza ma la diffusione virale di intrattenimento digitale per le audience interconnesse utilizzando quella che è un'espressione di Dana Boyd che studia appunto le audience interconnesse cioè gli utenti che agiscono nella rete e che guardano alcuni contenuti un public historian nordamericano Jason Stenauer chiama questo panorama lo chiama e-history storia elettronica e questo e lui si riferisce a tutte le diverse modalità in cui prende forma la storia nell'ambiente digitale forme che mutano al mutare della piattaforma così come mutavano all'epoca degli old media caratterizzati da linguaggi pubblici diversi una cosa è costruire un documentario televisivo altra un cinema un film di finzione per il cinema altro ancora una trasmissione radiofonica e così via allo stesso modo è diverso costruire contenuti per Wikipedia per i social per i blog per i podcast per Youtube per l'addestramento dell'intelligenza artificiale per la costruzione di mappe e portali tematici si può essere d'accordo non d'accordo con Steinauer sulla formazione di questa categoria della storia elettronica che è l'insieme di tutto il modo di come viene raccontato la storia dentro l'ambiente digitale ma c'è un dato che sicuramente coglie questo storico che secondo me è incontrovertibile cioè che la storia a contatto con i media diventa parte di un immaginario globalizzato rimediato e convergente e un altro aspetto che a mio avviso va preso in considerazione di questa sua riflessione è che fare storia nel presente digitale non significa solo usare il digitale nelle sue diverse modalità per disseminare il sapere storico ma anche studiare come la storia si trasforma in post-storia attraverso le narrazioni digitali che accumulano la conquista che tendono alla conquista di click mi potreste dire a questo punto che si tratta semplicemente di un nuovo modo di guardare sempre e comunque all'uso pubblico della storia nel digitale in parte è vero ma è anche vero che nel mondo dei media broadcast questo non poteva succedere perché la rete modifica il concetto di pubblico e soprattutto muta il processo cognitivo e di approccio alla storia piegandole alle regole delle piattaforme digitali e alla loro ridefinizione di realtà reale e virtuale a differenza della televisione che era evidentemente uno strumento esterno sono nella nostra tasca vivono contemporaneamente nel momento stesso in cui noi siamo presenti voi siete qui con me oggi in questo momento fisicamente in quest'aula ma siete anche al centro di scambi di algoritmi e di messaggi virtuali che avvengono nella tasca dove conservate e tenete il vostro smartphone quindi siete contemporaneamente qui con me e anche nella rete e queste cose vivono insieme e non sono una somma di reale e virtuale come l'immaginavamo nel web 1.0 di Second Life sono cose che vivono contemporaneamente che stanno insieme e che costruiscono quella che i psicologi i psicologi cognitivi americani chiamano interreale non una somma ma una nuova realtà in cui realtà e virtuale sono contemporanei e costruiscono formano una nuova realtà ebbè in questa nuova realtà questa nuova realtà è popolata è popolata da cittadini che chiameremo potremmo chiamare prosumer produttori consumatori ed è il prosumer che ha acquisito di mistichezza nella produzione e condivisione di contenuti virtuali digitali sempre potenzialmente virali e quindi sempre in grado di conquistare consenso senza dover chiedere il permesso a nessuna comunità scientifica il prosumer è colui il quale manipola la storia rimediata nel senso proprio della remediation come lo intendono Bolter e Grusin cioè del passaggio di diciamo di di questa narrazione storica da piattaforma a piattaforma da media da medium a medium con le varie caratteristiche che assume un racconto cross mediale un po' come quando immaginate le storie che diciamo di un romanzo che passa e diventa una serie televisiva e poi diventa un film e poi diventa un videogioco e così via la storia potremmo dire come come si dice nella cultura convergente diventa un franchise nella quale le narrazioni cross mediali agglutinano interpretazioni e questo è possibile perché ovviamente nelle piattaforme nella logica mediale delle piattaforme digitali la storia assume come tutti i contenuti digitali una la verità storica assume come tutti i contenuti digitali una nuova trasparenza ma allo stesso tempo questa trasparenza è legata all'opacità delle regole del funzionamento delle piattaforme quindi è visibile all'interno di un sistema di regole comunque opaco legato al fatto che quelle piattaforme funzionano come una cosa che noi non riusciamo a guardare a vedere l'algoritmo non possiamo dunque ignorare che il senso comune della storia si forma attraverso quella che appunto Jenkins aveva definito cultura convergente in cui si mescono le piattaforme mescolano cultura alta e cultura popolare ed in questo mescolamento che la post storia si ammanta di nostalgia mediale all'interno di quella che Lash già alla fine degli anni settanta chiamava società del narcisismo e così scriveva una società quella del narcisismo che ha fatto della nostalgia un prodotto commerciale del mercato culturale vi voglio fare un esempio senza appunto le varie slide prendiamo una canzone una canzone di Dante e Gabri Ponte che ne sanno i 2000 in cui si dice di Battisti e Mogol del Festival Bar di Quando C'era il Walkman e Fiorello al Karaoke dei Nirvana e dei Guns della musica dance Quando C'era le tre bim bum bam del Game Boy e di Blue da bati da bada l'estate sta finendo vivo in una fogna sono una tartaruga ninja ridatemi il mio tempo da bambino quando Banderas era Zorro e non il panettiere del mulino quando Capitano Uncino non era DJ Francesco era Bennato potessi rifare tutto quello che ho già fatto di Gig Robo e MacGyver del Megatribe Street Fighter di Tresporting che è un sciro dell'uomo tigre di Supercart degli olandesi del Milan La storia è l'immaginario del passato sono i ricordi dei cartoon dei telefilm degli spot pubblicitari delle trasmissioni televisive degli oggetti e questo spesso il tema centrale all'interno delle narrazioni digitali nelle nostre piattaforme quando un utente cerca di ricordare di raccontare una storia non c'è alcun riferimento in questa canzone che pure ci sta parlando degli anni 80 e 90 non c'è alcun riferimento all'Italia politica di allora alla sua crisi alla trasformazione sociale alla Repubblica dei partiti nessuno però tutta questa serie di parole ci fanno come una macchina del tempo attraverso questi immaginari ci riportano in quel periodo in quel tempo alle immagini che si scatenano nella nostra memoria come se fosse il montaggio di un film e dunque la storia nella continua successione di partecipazione e interattività di condivisione e simultaneità diventa oggetto di consumo mediale come quegli immaginari che vi ho appena evocato e che ci ricordano che i media sono sempre autoreferenziali e colonizzano la memoria biografica e generazionale diceva Mark Ferro che l'immaginario è storia tanto quanto la storia ma in questo caso l'immaginario prende il posto dei fatti e si salda nella memoria attraverso le emozioni creando una tensione nostalgica così la storia entra a far parte di un panorama di immaginari che stimolano ricordi ed emozioni da cui emergono fatti e personaggi del vissuto rendendo prevalente la narrazione rispetto alla ricostruzione storica e dunque la storia in quanto passato perché immaginario entra a far parte di quello che a Padurai Aaron Padurai un antropologo indiano di origine indiana ma naturalizzato statunitense chiama mediorama che cos'è il mediorama è in realtà un universo narrativo che fornisce alle audience interconnesse vasti e complicati repertori che cos'è il mediora che cos'è il mediorama che cos'è il mediorama è un'area Grazie a tutti. E torniamo al cortocircuito con la post-verità. Quindi sceneggiature che danno vita ad un complesso sistema di metafore e stereotipi che usano la storia, come direbbe Giovanni De Luna, come un supermarket, da cui prendere qualche prodotto da utilizzare per raccontare situazioni verosimili in cui ci si possa riconoscere attraverso l'alternarsi di sentimenti, quali la paura e il desiderio. Il panorama mediale della storia si riduce o esplode, e non vi sembri strano questa contraddizione che va insieme, a una sequenza di immagini immaginati e immaginari che si riferiscono a specifiche pratiche sociali diventate riconoscibili attraverso le rappresentazioni collettive riflesse nel prisma dei medi. Nell'immaginario conta la creatività. Dunque la sua preponderanza sulla realtà dei fatti genera la mutazione della storia nelle storie della post-story, ovvero quello che potremmo dire una metastoria emozionale e commerciale che come un brand ci appassiona. Spesso ci appassioniamo ad una marca e lo stesso modo ci appassiona, diventa un love mark, dicono gli studiosi di marketing, intorno a cui si organizzano comunità di fans che raggiungono pubblici schierati. Fare storia nel presente digitale significa quindi, a mio avviso ovviamente, studiare anche come si comunica la storia in questo ambiente, sia dal lato dell'emittente sia dal lato del ricevente. La costruzione, l'uso e la percezione attiva e passiva del messaggio. Con il digitale l'emittente e ricevente possono scambiarsi di ruolo o sovrapporsi. Pertanto per studiare questo processo è necessario mettere in campo un'opera di decodifica delle modalità narrative, della soggettività percettiva e prescrittiva, influenzata spesso dai protocolli di comunicazione delle piattaforme digitali, che impongono regole di produzione e consumo, pena la invisibilità. La storia si codifica, emoji, hashtag, meme, clip, montaggi, in cui il valore della storia si pesa in base alla capacità del racconto di ampliare il numero di follower. Questo però ci riporta al valore primordiale del racconto storico, orientare con i fatti, con fatti e personaggi, l'opinione pubblica per costruire una comunità immaginata, avrebbe detto Benedict Anderson. Per questo la storia è diventata materia da influencer e gli storici che hanno un vero pubblico digitale, ma un vero pubblico digitale, non i tentativi anche risibili che fanno alcuni storici che non vanno oltre il proprio pubblico di riferimento, e che costruiscono invece quelli che sono in grado di costruire grandi pubblici di follower, si comportano da veri e propri historical influencer. Che vuol dire? Non è una questione di essere culo alla moda. Significa che questi sono stati in grado di piegare la storia al funzionamento delle piattaforme in cui si agisce come historian influencer o presunti tali, applicando modalità narrative adeguate alla natura commerciale dello strumento utilizzato. Questo lavoro di decodificazione, all'interno della digital public history, secondo me viene prima della creazione di progetti e strumenti digitali per il coinvolgimento delle audience interconnesse. Perché è una fase che potremmo definire communicating public history, cioè come si comunica la public history. Come si comunica? Si comunica a partire dalla conoscenza delle piattaforme social. Sapere che Facebook è come la tv generalista, che genera gruppi che sono spesso comunità di interesse e la storia lo diventa come questo, che ha delle pagine fan che servono alla promozione commerciale, che Instagram ha funzione come un magazine, come le riviste divulgative che un tempo compravamo in edicola, La Istorica, Storie Dossier e così via, e che hanno anche un valore di promozione dello storico come influencer, anche perché si fondano sulle immagini. Ancora prima è sulla una decodifica di queste immagini attraverso un sistema di etichettatura, che è quello dell'emoji o degli hashtag. Oppure dentro TikTok, dove la storia diventa una performance, la storia diventa tu curi, intrattenimento, e lo storico, se in grado di essere tale, diventa, costruisce una propria dimensione di creator digitale, che attira la curiosità del pubblico e che è in grado di entrare nel trend degli algoritmi e quindi di stare nei wall, diciamo, quando noi scrolliamo il nostro TikTok. Perché la battaglia è lì, è stare nel trend, nel flusso dei trend. E l'altro elemento ancora è che questa attività performante dello storico in una piattaforma come TikTok ha a che fare con il reality show, a pensare che la storia, di fatto, nel corso dei secoli, è sempre stata un reality show. E questo ci riporta all'idea che i format mediali sono quelli che forniscono la cornice delle narrazioni. In YouTube abbiamo historical youtuber, che stabiliscono un rapporto diretto con il proprio pubblico. Ci sono forme di divulgazione scientifica adeguate non solo alla disseminazione del sapere, ma anche alla didattica. Ci sono esempi interessanti, come quello di Nova Lectio, che forse è quello più vicino a Notabene, come trasformazione appunto di questo Simone Guida, che dall'inizio comincia a costruire un canale YouTube e poi si ritrova a scrivere manuale di storia per giovani e come divulgatore. Insomma, le piattaforme sono quegli agenti che metabolizzano la globalizzazione del mediorama storico e lo metabolizzano in un format digitale, in cui la valenza politica della storia è sostituita con l'interesse commerciale per la piattaforma. E guardando all'insieme dei profili possiamo notare come l'attivismo degli historical influencers rientri almeno in quattro delle otto categorie professionali di web-oriented. Il community manager, che coinvolge e fidelizza gli utenti in social community per attirarli nel processo di brandizzazione della storia, attraverso una diffusione virale, che è centrale nella costruzione del proprio management. L'online advertiser, cioè chi è in grado di utilizzare la storia per strategie di marketing e di produzione di beni e servizi online, io ho trovato facilmente un profilo di TikTok che fa storia militare molto interessante, costruito bene ed è il profilo creato da un negozio che vende armi, che ovviamente utilizza la storia militare come promozione della vendita delle armi. Oppure hanno un ruolo da digital peer, che usa le narrazioni di storia per attivare network di relazioni e sviluppare reti di contatti. O ancora usano la storia come e-reputation manager, cioè chi usa la storia per aumentare la propria reputazione attraverso le narrazioni storiche, con l'atteggiamento tipico di un'azienda interessare a aumentare il proprio valore di mercato. Quindi lo storico che studia social deve partire dall'idea che queste piattaforme sono un modello di rappresentazione della società. Meta ha costruito piattaforme che rappresentano il modello borghese occidentale, By Tendence ha costruito un modello massificato cinese. Questi sono elementi di rappresentazione sostanziale, perciò queste piattaforme sono diverse, perché guardano a società diverse. Una la borghesia occidentale, l'altra il processo di massificazione della società cinese. Sono arrivato a queste riflessioni lavorando con gli studenti di scienza della comunicazione dell'Università di Salerno. Nessuno di loro sarà mai uno storico, per nostra fortuna, ma tutti in quanto operatori dei media avranno a che fare prima o poi con la storia come creatori di contenuti digitali o mediali in genere. E quindi queste mie riflessioni nascono dal dialogo con la generazione Z, in cui è emersa una discussione sui social come archivio del presente. Una duplice caratteristica dei social è il presente come storia del futuro, pensate al lavoro che è stato fatto durante il Covid per fermare quel tempo e le riflessioni delle opinioni pubbliche durante la pandemia per trasferirle agli storici del futuro e poter studiare quello che accadeva e le riflessioni che c'erano durante quel periodo. E dunque il presente come storia, già storico potremmo dire, è un po' il lavoro che faccio io con il mio gruppo di ricerca, che è quello di guardare come cambia l'immaginario per esempio delle mafie, tra i miei studi, per poter dire tra 50 anni come comunicavano le mafie all'inizio dell'era digitale. L'altra modalità invece è il presente come aggiornamento del passato, quello che spesso è stato definito updateismo, cioè l'idea che aggiorniamo il passato sempre sul presente. E tra le due modalità, cioè il presente come storia del futuro e il presente come aggiornamento del passato, questa seconda modalità è sicuramente la più affascinante, perché ci racconta quanto il digitale sia in grado di modificare la percezione cognitiva del tempo. Il tempo dei social è circolare e si struttura intorno al ritorno della memoria come produttrice di presentificazione. Pensate alla sezione ricordi dei social, no? O pensate anche a quello che fa Google Foto quando avete un account che vi ricorda le foto che avete fatto dieci anni fa, cinque anni fa o cinque minuti ancora, sto finendo. Una memoria fatta nella maggior parte dei casi di immagini riproposte dagli algoritmi. Possiamo pensare che questa memoria sia sinonimo di immaginario algoritmico? Possiamo pensare che la memoria che si aggiorna continuamente al presente ripubblicando un ricordo significa presentificazione? Possiamo pensare quindi che il principio fondante della storia salti, perché il tempo esprime la profondità della storia e la lontananza dei contesti, ma se questi contesti ritornano, con la presentificazione abbiamo la storia che si appiattisce sul presente, consegnandola ovviamente all'interpretazione del presente. E quindi questo schiacciamento, sempre per citare Dana Boyd, provoca il collasso dei contesti. Essenza il contesto e la ricostruzione del contesto e la capacità di guardare al contesto come lontananza significa far saltare il pilastro principale della profondità della storia, cioè il tempo. Ma lo schiacciamento e la fine della profondità significa anche passare dal tridimensionale al bidimensionale. E guardate, noi viviamo in un ambiente bidimensionale, lo schermo, il monitor. La metafora di questo schiacciamento sono i contenuti che sono diventati bidimensionali, tutti all'interno di uno schermo. Ora, questo ha a che fare anche ovviamente con lo spazio, però non mi dilungo su questo, molto probabilmente ci saranno diverse riflessioni sullo spazio anche legate al GIS, al mapping e così via. Però quello che mi interessa è la dispercezione temporale che sta riscrivendo l'immaginario storico. Film e serie tv in cui si viaggia nel passato per modificare il presente o al contrario si parte dal futuro per giungere nel nostro presente e modificare il futuro che è il presente narrativo. Pensate ai grandi, a quando tutto è cominciato con Terminator e Ritorno al Futuro e poi a un insieme incredibile di serie televisive da Dark al Loop ed altri in cui il tempo diventa circolare. Infatti una di queste serie si chiama Loop prodotte da Amazon con la Foster come regista e produttrice e l'idea è il tempo che torna, torna, continuamente torna. Ci vorrebbe quindi uno studio specifico a mio avviso dello studio di questi immaginari che stanno strutturando l'idea che il tempo possa sempre tornare. Perché? Perché viviamo in un ambiente in cui il tempo torna con i ricordi e la logica del tempo ricircolare segue la logica della memoria e quindi parliamoci chiaro, oggi la memoria ha fagocitato la storia e la memoria che torna ciclicamente provoca uno scasso di emozioni che spesso ci inducono a pensare che se potessimo tornare indietro cambieremmo il corso degli eventi vissuti. Ed è qui che la nostalgia diventa rimpianto e pulsione che nel presente, grazie agli strumenti digitali, si porta a pensare alla possibilità di mutare i contesti mutando la sequenza dei fatti come nel montaggio di un film. Pensate, e non mi dilungo su questo, ci sarebbe molto da dire, ad un film come Arrival, dove il tempo diventa circolare, bidirezionale e simultaneo. In questo continuo aggiornamento, che è un desiderio immaginario di costruire postverità ideologica, la storia diventa parte di un discorso pubblico come opinione corrente e non più come costrutto scientifico. Oisinga, negli anni venti del Novecento, scriveva «la storia è la scienza che più di tutte tiene aperta la porta al grande pubblico. In nessun'altra scienza il passaggio dal direttante all'esperto è così sfumato, in nessun'altra scienza una particolare conoscenza preliminare di natura scientifica è richiesta in misura tanto scarsa quanto lo è nel caso di chi voglia comprendere storicamente e operare storicamente. In tutti i tempi la storia è cresciuta molto di più nella vita che nella scuola. I media digitali, per la loro natura emozionale e commerciale, non sono più come fu il cinema nel Novecento a gente di storia. Hanno una dinamica molto più simile a quella della televisione, che ristruttura la realtà attraverso discorsi autoreferenziali che geomonizzano la formazione dell'immaginario storico. Non è vero che siamo in una fase di disintermediazione dei contenuti. È vero piuttosto che l'ambiente digitato ha polverizzato i corpi intermedi proponendosi esso stesso come dominio della neointermediazione immateriale. La battaglia in corso, e ho concluso, non è contro il digitale, ma dentro il digitale, per strutturare nuove forme di trasmissione del sapere storico. Pensate, TikTok ha fatto un accordo con la Treccani per la disseminazione del sapere. Senza rinunciare alla profondità del contesto storico, che è l'unico modo per evitare la deriva delle analogie nel senso comune del network individualism dominato dai prosumer. Grazie. Ringraziamo il professor Ravveduto per questo intervento che credo sia riuscito a confonderci abbastanza le idee, quantomeno a farci capire i livelli di complessità che oggettivamente si intrecciano se si vuole osservare quello che sta avvenendo nel nostro contemporaneo anche da un punto di vista epistemologico. Quindi cosa sappiamo di? Cercando di mettere la lente dell'osservazione dal punto di vista dello storico e della storica. Davvero tantissimi gli stimoli, penso che si potrebbe discutere moltissimo solo a partire da questo intervento e vorrei agganciare un attimo due cose sulle quali è tornato un paio di volte, in relazione all'idea della disintermediazione-intermediazione, che credo sia un tema veramente centrale, perché sono convinto anch'io che quella fantomatica disintermediazione non esista all'interno della rete, anzi al contrario, ogni algoritmo ha una forma di intermediazione. Quindi siamo iper-intermediati, bisogna cercare di capire come riuscire a intervenire all'interno di queste prassi di intermediazione, come ci ha appunto fatto riflettere adesso il professor Abbeduto. E dall'altra parte vorrei portare l'attenzione su quest'idea della memoria che ha fagocitato la storia, che è una cosa che penso che ognuno di noi senta abbastanza, anche solo da un punto di vista epidermico, è qualcosa con il quale ci stiamo confrontando, dato anche dalla velocità informativa con la quale fruiamo i contenuti. E quindi anche la vita, perché poi è un po' questo lo scarto che c'è stato, cioè è tutto rapido, non diamo più il tempo di storicizzare niente. Perché ho ritenuto di interesse sottolineare questi due punti sulle tante cose stimolanti che ci ha detto il professor Abbeduto? Perché penso che l'intervento, gli interventi che arriveranno adesso e che ho il piacere di coordinare, in qualche modo entrino proprio in maniera diretta sul tema dell'intermediazione, soprattutto in un ambito della dematerializzazione delle fonti storiche, siano queste nate materiche o nate digitali. E dall'altra parte perché appunto con le fonti si è in qualche modo costretti a confrontarsi con la storia e quindi a non limitarci a confrontarci con la memoria, perché la fonte è l'elemento che dal passato giunge al presente e che ci dà in qualche modo un'apertura sulla storia. Quindi la fonte è questo elemento che ci ancora. Per questo ho il piacere di invitare qua al tavolo accanto a me e in collegamento a distanza da Roma, qua con me il professor Balacchi e a distanza invece il dottore Orzini. Il professor Balacchi e il dottore Orzini intervengono in questa sessione dal titolo Nel mondo degli archiviventi, le fonti digitali tra sedimentazione, selezione e aggregazione. Questo è il titolo dell'intervento del professor Balacchi, un breve introduzione, si potrebbe parlare per ore anche solo di quello che ha fatto, professore di archivistica all'Università di Macerata, consiglio direttivo, master informazione, gestione e conservazione di archivi digitali, sempre all'Università di Macerata, membro del consiglio dei docenti del dottorato di ricerca a scienze documentarie e archivistiche letterarie della Sapienza, presidente dell'associazione italiana docente universitaria delle scienze archivistiche, codirettore della rivista J-LIS, comitato scientifico delle riviste AIDA Informazione, il capitale culturale, nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari, direi grande animatore del gruppo Facebook Archivistica Attiva, nonché uno degli autori che maggiormente mi ha aiutato a porre delle riflessioni rispetto a ciò che sta avvenendo oggi. Prego. Ciao, sono Federico e sono un archivista. Mi autodefinisco, mi metto dentro a questo gruppo di autoascolto perché è, come dire, sempre utile e importante chiarire i ruoli. Sono anche un archivista sfortunato perché parlare dopo l'intervento di Marcello, così alto, così denso, non è davvero molto semplice, come potete comprendere. Io in scia con quello che ha detto anche Marcello, farò un intervento più del dire che del fare, anche perché penso che comunque il dire, quando parliamo di queste cose, non sia secondario. Troppo spesso noi facciamo digitale senza pensare digitale e quindi la consapevolezza critica degli strumenti, soprattutto per chi fa il mio mestiere, ha ricadute molto forti, molto puntuali. quello che vorrei fare questa mattina insieme a voi è un tentativo disperato di ridurre a sistema, se e per quanto è possibile, questa idea dell'archivio digitale. L'archivio digitale è un'espressione abusata, un'espressione, sapete come quando uno ripete una parola, gatto, 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 e poi perde di vista il felino, un'espressione che, come dire, ogni volta ognuno riempie di significati specifici. Cerchiamo allora di calare questa idea di archivio, di archivio digitale dentro a quelle che sono le manifestazioni naturali dei sistemi di fonti archivistiche. In natura, io credo che questi sistemi si presentino oggi con le tre parole che io ho usato e che poi cercherò, come dire, di ridurre. Condivido il schermo perché ci vedano. Quindi le tre espressioni di quello che continuiamo a chiamare archivio, se possiamo continuare a chiamarlo archivio, sono quelle che vedete e che cercheremo di, come dire, valutare. La sedimentazione, la selezione e l'aggregazione. Ma la vera parola chiave, io credo che sia dematerializzazione. Cioè, noi tutta questa serie di fenomeni, molte anche delle cose che diceva prima Marcello, dobbiamo imparare a collocarle in una dimensione che non sia meccanica. Noi, nello specifico, possiamo, io credo, ormai parlare di dematerializzazione della mediazione, quando parliamo di queste cose. E la dematerializzazione non è un processo, ormai lo sappiamo bene, meccanico di trasferimento di supporto. L'innovazione, se vogliamo usare questa parola, anche questa un po' usurata, non è creare fotocopie digitali, processi di digitalizzazione delle fonti primarie. L'innovazione è cambiare i nostri comportamenti per effetto dell'uso degli strumenti digitali. Quindi l'idea di una dematerializzazione della mediazione ci porta a dover riflettere, come dicevo in precedenza, sul concetto di archivio digitale. Ribaltando il problema, che idea di archivio noi possiamo avere oggi e soprattutto domani quando lo decliniamo nel quadro digitale? Un'idea molto ampia, un'idea molto larga. Noi veniamo da un'esperienza, come dire, di lunga durata, dentro la quale l'archivio è l'espressione spontanea e naturale, per quanto possibile, dell'azione di un soggetto produttore. Quello a cui stiamo assistendo è invece un ribaltamento della produzione. Il fenomeno forse più interessante e più decontestualizzante impotenza è proprio questo fenomeno di ribaltamento o di moltiplicazione della produzione documentaria. Lo dico subito, poi ci tornerò. La dimensione archivistica deve, come dire, fare una scelta. O trincerarsi dietro a un metodo, a una tradizione che sono importantissimi in quanto termini di paragone, o accettare il ruolo vero dell'archivistica che è quello di confrontarsi con la realtà, di immergersi dentro la realtà. Non si può fare l'archivista senza un confronto quotidiano con quello che accade fuori alla finestra. Ma accettare questo tipo di confronto significa anche accettare idee di archivio che possono e sono diverse da quelle consolidate, che non perdono valore. Io sono un tenace difensore dell'idea di continuità, perché se tu non hai uno zoccolo duro di comparazione, il cambiamento non lo apprezzi se poi tu riesci a comprenderlo, questo cambiamento. Quindi anticipo una slide che magari poi non useremo perché mi sono seccato di usare il slide. Vietato vietare, cioè se c'è una forma documentaria tendenzialmente anomala, ma che è espressione comunque di un bisogno informativo che attraversa la società, quello è un archivio. Certamente, voglio dire, molte cautele le dobbiamo mantenere. Marcello ha finito il suo intervento parlando giustamente di contesto, ma il contesto non è più la conoscenza del soggetto produttore. In molti casi è la conoscenza del punto di vista del soggetto aggregatore. Espressioni documentarie come gli archivi inventati, gli archivi partecipativi, i living archives. sono archivi, io li chiamo archivi senza timore, dove il processo di montaggio è ribaltato. La realtà che noi ci troviamo ad affrontare è questa in questo momento, perché comunque da un punto di vista archivistico quando uso l'espressione sistema di fonti devo essere per quanto possibile sistematico. Noi abbiamo ancora il buon vecchio archivio in senso proprio, produciamo archivi. Magari l'idea anche di soggetto produttore in un regime di interoperabilità si modifica, ma l'archivio in senso proprio esiste ancora, perché abbiamo un preciso problema se vogliamo essere appunto tassonomici. non solo la dematerializzazione dell'analogico, ma noi dobbiamo porci, lo sapete tutti meglio di me, il problema della storicizzazione della memoria contemporanea. Cioè il problema della conservazione digitale che spesso deve scontrarsi contro il luogo comune o l'alibi della presunta fragilità degli archivi digitali. lo dicevamo ieri sera scherzando a cena, prendete una pergamena simbolo della solidità analogica e mettetela in spiaggia. Diventa piuttosto fragile anche questa. La conservazione è un problema prima di tutto di accudimento. La storicizzazione degli archivi informatici che stiamo producendo è un problema di accudimento, il che significa un problema politico di definizione di un modello conservativo adeguato. Gli archivi di stato che tutelano l'immenso patrimonio documentario di cui siamo grati al passato non sono nati per un gioco così. Dicevamo, ma c'ho tutti questi documenti, che si fa? Ma facciamo un archivista. No. C'è un progetto politico che risale agli anni settanta dell'ottocento che ha definito un modello conservativo che ci siamo portati fino ad oggi. Oggi non abbiamo un modello conservativo per il digitale. Questo è un problema serio. Perché le responsabilità di chi fa il nostro lavoro, di chi condivide i nostri valori, sono verso il futuro in questo momento. Non solo verso la ricontestualizzazione del passato. Quello è ancora un altro problema. Ecco, molto rapidamente però, passando quindi dall'archivio in senso proprio e dai problemi che comporta a questa invece fenomenologia documentaria partecipativa, io credo che noi oggi facciamo i conti con dei fenomeni documentari molto importanti e molto interessanti. Si parla ormai da tanto tempo di archivi inventati. Ma a me dell'archivio inventato, come dire, anche in una dimensione di metodo, interessa il criterio di costruzione, di aggregazione. Questa idea secondo la quale non è più il bisogno naturale di chi produce l'archivio, l'azione del soggetto produttore a determinare l'aggregazione, ma un punto di vista. Cioè l'aggregazione viene prima di certi fatti che poi l'aggregazione determina. Ma questi oggetti digitali sono oggetto, scusate la ripetizione, di un montaggio. Dentro all'archivio dell'11 settembre, quello che si cita sempre in questi casi, sono raccolte secondo un punto di vista e quindi il contesto diventa l'analisi del punto di vista, documenti che provengono da archivi diversi. Ci sono dispacci di agenzie governative, ci sono sms, ci sono mail di cittadini. Tutto dentro ad un montaggio che parte da un punto di vista e che poi legittima i fatti successivi. Se facessimo fare l'archivio dell'11 settembre ipotetico alla controparte, nel deep web magari c'è l'11 settembre del Qaeda, gli stessi documenti in un montaggio diverso avrebbero esiti totalmente altri. Quindi l'invenzione dell'archivio ribalta la nostralità dell'archivio, ne fa l'espressione di un punto di vista. Questo diventa ancora più evidente nella dimensione partecipativa dell'archivio. Vedete, l'archivio partecipativo è una forma collaborativa, di pratiche collaborative in cui gli archivisti, gli storici, eccetera, eccetera, costruiscono una collezione archivistica unica. Cioè, qui viene fuori un altro aspetto che secondo me è centrale. Questa idea della collaborazione, della collettività che si impegna nella costruzione di aggregazioni documentarie. Con i suoi vantaggi e con i suoi svantaggi. Con il rischio di contaminazione di ruolo. Però l'archivio partecipativo, come dire, in alcuni casi è molto ambizioso. Se voi scorrete le pagine del Royal Rosenweig Center, loro in un page, bello evidente, mettono una fase che magari voi i colleghi, io sono solo un archivista, mi spiegheranno meglio. Questa idea per cui si usano i mezzi digitali e le tecnologie informatiche per democratizzare la storia. Insomma, un'affermazione mica da poco. A me, da umile archivista, viene da dire ma di quale storia e di quale democrazia parlate. Quindi questi fenomeni aggregativi, apparentemente innocenti, apparentemente inclusivi, apparentemente aperti ai bisogni delle comunità di riferimento, se li andiamo a guardare bene non sono poi così neutrali. Mettono in discussione queste costruzioni al basso, o comunque ci impongono una riflessione, sull'affidabilità dei sistemi di fonti, perché sono spesso allettanti. Ce n'è uno, per esempio, una di queste aggregazioni canadese, quella costruita durante il periodo del Covid, raccogliendo testimonianze, facendo anche un lavoro di psicologia relazionale collettiva in un momento di isolamento. Quindi costruzioni apparentemente virtuose. Gli archivisti non giudicano la virtù di un archivio, cercano però di seguirne le idee contestuali. E quindi quando l'archivio diventa di tutti oppure di nessuno, qualche problema ce l'abbiamo. Poi, un'altra manifestazione documentaria molto interessante è quella dei cosiddetti Living Archives. I Living Archives sono un ulteriore passo avanti sulla strada del montaggio partecipativo. Sono molto interessanti. Io in italiano poi accetto consigli, li ho tradotti come archivi viventi, ma è una piccola provocazione che ho ripreso anche nel titolo. Però è una maniera tipica, io credo, della fluidità digitale, di documentare passo passo e di storicizzare, forse passo passo, tutta una serie di espressioni, di bisogni della società. In certi passaggi questi archivi viventi diventano, come dire, delle vere e proprie catene di controinformazione. Si parlava prima di costruzione del consenso. Beh, molte espressioni del movimentismo che poi si riconoscono e producono archivi viventi sono invece elementi di costruzione del dissenso. Tutto ciò fa parte della sfera documentaria. L'archivistica è una disciplina ex post, quindi io sono convinto di questo. Ci sono prima i fenomeni documentari, prima i bisogni documentari e poi arriva, come dire, l'archivista che cerca di razionalizzare e di riproporre modelli da applicare nel futuro. Però a questo punto, anche perché mi sono un po' dilungato per i miei gusti, vorrei arrivare, abbiamo parlato sostanzialmente di sedimentazione con l'archivio in senso proprio e di aggregazione con gli invented archives, eccetera, eccetera. L'ultimo anello di quella catena che avevo introdotto nel titolo è quella che potremmo chiamare la digitalizzazione delle fonti primarie, cioè il trasferimento di supporto dall'analogico al digitale. Qui nessuno ha più un dubbio che la strada sia quella della digitalizzazione delle fonti archivistiche, opporsi sarebbe come dire io sono contrario al tramonto, una roba del genere, l'alba non esiste, mi rifiuto. No, è il presente già da tempo, già da molto tempo. Prego? Tipo anche di più, tipo anche di più, le prime cose. Sì, quindi sono 25 anni, ma comunque voglio dire non è, non è, non stiamo qui a fare l'anno. Il problema quindi non è se, è piuttosto come, perché io non dimenticherei mai, questo quando si parla di archivi a volte rimane sullo sfondo, soprattutto quando se ne parla in teoria, il dato quantitativo. Cioè gli archivi sono oggetti grossi, brutti, sporchi, spesso cattivi, soprattutto grossi, grandi. Quindi il problema che noi abbiamo molto spesso è un problema di digitalizzazione selettiva. Ma la digitalizzazione selettiva, dipende dai criteri di selezione, ovviamente, ma genera nuovi sistemi documentari a partire da un originale analogico nella sua integrità anche contestuale. Negli anni passati si è parlato, e secondo me è ancora legittimo farlo, di hidden collections, di hidden archive per tutto ciò che non compare, diciamo così genericamente, nella sfera digitale. Questo significa che cosa? Che la digitalizzazione selettiva, o meglio, la selezione digitalizzata, nasconde, con la potenza del mezzo di trasmissione, l'originale analogico. L'archivio di Calvino nella sua integrità fisica originale, diventa l'archivio di Calvino nella sua selezione digitalizzata che il web mi propone. E i problemi non sono insieme ai vantaggi secondari, perché, come dire, siamo di fronte a una sorta di vendetta del copista. Il digitalizzatore ridefinisce plasticamente un sistema di informazioni che originariamente magari aveva. Quindi, lungo questo percorso, voglio dire, si può andare lontano. ora intendiamoci che gli archivi sono sempre stati forme di autorappresentazione, non voglio essere ingenuo fino a questo punto. Molti archivi sono costruzioni quasi dolose di una memoria che si è ritenuta rappresentativa, però certamente questo problema nella dematerializzazione delle fonti primarie ce l'abbiamo. qui la parte finale autocritica e propositiva. Al netto dei problemi che dicevamo della selezione, delle ricontestualizzazioni, eccetera, 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 noi dobbiamo, però, noi dico gli archivisti in questo caso, prendere atto, come dicevo prima, di una realtà. E qual è la realtà? La realtà è una realtà nella quale gli utenti si aspettano ogni giorno risposte più puntuali, più esaurienti, risposte capaci di andare oltre la tradizionale approssimazione descrittiva che ha sempre condizionato la descrizione archivistica, cioè io faccio un inventario ma ti do un orientamento rispetto alla totalità dei contenuti informativi di un archivio. Ecco, il problema a cui dobbiamo rispondere è la domanda a cui non è lecito dire non mi riguarda, è come faccio a passare dai contesti che sono sempre state la chiave di accesso agli archivi ai contenuti? Questo è di materializzare la mediazione, cioè cercare di andare in direzione di una sempre maggior puntuale, stamani ne sentiremo oggi ne sentiremo parlare, descrizione dei contenuti, senza ovviamente perdersi nei contesti. Allora, per farla molto breve, io credo che tutto ancora dipenda quando si parla di archivi analogici che poi digitalizziamo dalla descrizione. O noi descriviamo, conosciamo e ordiniamo gli archivi o ogni ulteriore azione digitale sarà vana. l'inventario archivistico che sembra un reperto del passato è l'unico vero elemento contestualizzante di qualsiasi azione successiva. Quali sono le azioni successive? Se partiamo dalla descrizione archivistica come base della conoscenza dell'archivio proviamo, ma anche a livello progettuale di budget a iniziare a ragionare in termini di descrizione aumentata. cioè quando io un fondo l'ho ordinato o poi posso mirare a una sua serie a una sua parte e trattarlo con tutto quello che volete indicizzazioni transcribus e poi vedremo che cosa viene fuori ma prevederlo cioè il lavoro archivistico a questo punto deve prendere atto della digitalizzazione in questo senso che siccome digitalizzazione ci sarà per dare un senso al lavoro archivistico l'inventario che non è mai stato un punto d'arrivo è una fase ormai intermedia perché poi parte un lavoro redazionale un lavoro di valutazione soggettiva tematica sì perché no che ci conduce a oltre i contesti quindi l'idea che come dire volevo condividere con voi dentro a questa archivistica che potremmo chiamare così post analogica ma oggi siamo post tutto insomma è questa che il contributo che insieme possiamo dare al potenziamento della dimensione euristica degli archivi digitalizzati sta proprio tutto qui nella consapevolezza che dobbiamo andare oltre l'inventario dentro a come dire tentativi progressivi di individuazione dei contenuti detto questo poi non è importante io dico sempre come cerco è importante cosa trovo quindi i contenuti certamente ma i contenuti insieme ai loro contesti e qui il discorso torna a bomba a quello che dicevamo prima sull'ordinamento sull'inventario cioè queste pratiche antiche che se uno ci pensa bene sono adesso ancora più preziose di quanto non lo fossero in passato quando vogliamo fare davvero innovazione lo ripeto il confronto con la tradizione è la dimensione secondo me più saggia per cogliere l'innovazione mettere un taglionetto e fare iniziare dicevamo prima il 20 il 22 il 2000 il mondo dalla cosiddetta rivoluzione digitale perniciosissimo un'ultima ultimissima cosa naturalmente in tutti questi processi prospetticamente in tutta questa gestione di quelli che qualcuno ha chiamato i big data archivistici un ruolo ce l'avranno le intelligenze artificiali inevitabilmente poi oggi non puoi venire qui a fare un intervento senza dire nemmeno una volta intelligenza artificiale va da sì intelligenze artificiali mi permetto solo questa grossa finale che a me viene ogni tanto da pensare come learning archives perché le intelligenze generative che cosa fanno accumulano analizzano e metabolizzano dati per produrre altri dati accumulano cose per generare altre cose gli archivi hanno sempre un po' fatto questo negli archivi noi abbiamo sempre accumulato dati che poi sono stati metabolizzati per produrre altri dati e così dicendo il rischio che vedo ma figuratevi quanto può contare quanto io vedo il rischio è quello che questi learning archives diventino ma non chiuderò con la paura robotica che non mi appartiene un gigantesco sistema di normalizzazione dell'informazione della memoria cioè nel momento in cui noi perdiamo la spontaneità la naturalità dell'archivio da cui siamo partiti le peculiarità l'unicità dell'archivio corriamo un grosso rischio di omogeneizzazione io non vedo nel nostro futuro almeno in quello professionale robot che si aggirano ticchettando e ronzando vedo il rischio di una fortissima omogeneizzazione vedo il rischio di un gigantesco e terribile pensiero unico ecco credo che l'archivistica se serve a qualcosa serve a mettere in discussione sempre e comunque i pensieri unici vi ringrazio vi ringrazio per quanto riguarda il processo di normalizzazione volevo chiedere quali sarebbero i pro e i contro di questa trasformazione per quanto riguarda mi scusi tipo questa omogeneizzazione o normalizzazione come l'ha chiamata prima quali sarebbero i pro e i contro di questa trasformazione quello di rendere un pensiero unico in vari aspetti io direi che l'ho introdotto essenzialmente come rischio cioè l'idea e un po' la provocazione dell'omogeneizzazione del pensiero unico è l'idea che deriva da una fiducia da un fideismo nelle tecnologie quindi noi il ruolo che possiamo avere in quegli algoritmi che sempre ricordiamo è quello di un approccio quanto possibile critico di non lasciarsi nemmeno a mio modesto modo di vedere come di trascinare troppo da certe retoriche le macchine che imparano questa idea che comunque le macchine si addestrano le macchine si addestrano prego imparano più velocemente in una maniera impressionantemente più veloce sì però nella sistematicità voglio dire si perdono molto spesso le differenze in questo senso io dico ne parliamo poi perché non rubiamo tempo grazie mille al professor valacchi tema credo di grandissimo interesse perché veramente interroga storici e storiche ma non solo anche in generale utenti e fruitori su come riuscire a recuperare informazioni storiche quindi le fonti e io penso che quella quest'idea di una descrizione aumentata senza perdita di contesto sia veramente una strada di grandissimo interesse ora ho il piacere di introdurre setto un attimo anche ecco qua ecco ho il piacere di introdurre il dottor Orzini che ci porta un intervento dal titolo la conquista dell'ubiquità ricerca storica archivi digitali il dottor Orzini è funzionario archivistico di stato per l'istituto centrale per gli archivi ICAR membro del gruppo di lavoro del portale antenati responsabile del progetto del portale ti racconto la storia coordinatore della piattaforma Metafad responsabile del progetto partigiani d'Italia fa parte del tavolo tecnico sul Vademecum dei trattamenti delle fonti orali responsabile scientifico del progetto portale archivio digitale e referente ICAR per la costruzione e linea guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale io la ringrazio molto per essere qui con noi e le do la parola grazie salve buongiorno spero che mi si senta datemi un cenno di assolutamente sì e ora capiremo anche da casa perfetto ora vi ringrazio per l'invito e mi scuso per non essere lì presente per una serie di motivi tra i personali e di lavoro il mio intervento è un intervento che in parte dialogherà con alcune cose espresse nel intervento precedente dal professor Valacchi e in parte cercherà invece di analizzare delle questioni più tra virgolette terra terra cioè di soluzioni della gestione e pubblicazione quindi fruizione dei progetti di digitalizzazione di documentazione storica ma mi permettetemi di iniziare con una citazione che poi è un po' il senso del titolo di questa relazione come l'acqua il gas la corrente elettrica entrano provenendo da lontano nelle nostre abitazioni per rispondere ai nostri bisogni con uno sforzo quasi nullo così saremo approvvigionati di immagini e di sequenze di suoni che si manifestano e scompaiono a un piccolo gesto quasi un segno sono parole di Paul Valéry scritte nel 1919 in un articolo che si intitolava appunto la conquista dell'ubiquità questo passo come noto è stato ripreso da Walter Benjamin nel suo lavoro l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica pubblicato nel 1936 Benjamin sulla scorta delle parole di Valéry porta all'attenzione il fatto che le potenzialità tecniche del ventesimo secolo in modo particolare la fotografia non modificavano solo la capacità di produzione e riproduzione degli oggetti d'arte ma trasformavano anche i modi e le forme della fruizione dell'arte da parte di un pubblico sempre più ampio l'avvento l'evoluzione della tecnica fotografica con tutta una serie di implicazioni di natura politica e sociale discusse anche da Walter Benjamin promuovono la documentazione la diffusione il godimento il consumo dei beni culturali sganciandoli però da dimensioni come spazio e tempo cioè l'ic et nunc della fruizione di un quadro all'interno di un museo viene proiettato in un ubiquue et semper dove l'ubiquue sta per un qualsiasi luogo fisico o virtuale e il semper sta invece per un qualsiasi momento scelti luogo e appunto tempo da chi voglia poi godere di un bene culturale tramite una sua riproduzione le parole di Valéry e le riflessioni di Benjamin mi sono sembrate molto attuali e soprattutto appropriate per introdurre questo intervento che farò cioè nel quale cercherò di concentrare l'attenzione sui progetti di digitalizzazione dei documenti storici e sugli strumenti informatici realizzati per metterli pubblicamente a disposizione sul web per un gran numero di utenti siano essi semplici curiosi o più sofisticati studiosi la disponibilità sul web di descrizioni e contestualmente di riproduzione di documenti storici ha rappresentato una forma di conquista dell'ubiquità cioè ha espanso quelle potenzialità e quelle modalità della ricerca certo per alcuni la conquista si è trasformata a volte in paura dell'ubiquità adducendo motivazioni di natura scientifica che nascondono in alcuni casi la paura della perdita dell'aura questa espressione tra l'altro cara e coniata da Walter Benjamin quella perdita dell'aura che fa del documento storico prima ancora di un testimone materiale un oggetto quasi di culto e di devozione che può essere consultato compreso soltanto nel tempio del archivio da parte dei suoi sacerdoti come in tutte le Zeit und Wände cioè in quelle epoche di trasformazione delle abitudini culturali e in modo particolare per quelle che hanno avuto tra le motivazioni prevalenti l'ampliamento della cerchia dei fruitori si registra una polarizzazione tra apocalittici e integrati passatemi questa espressione questo è accaduto per esempio nel passaggio dalla tipologia di rotolo a quella di codice dal passaggio materiale papiro pergamena e pergamena carta dal passaggio dalla modalità di scrittura a mano alla ars artificialiter scribendi tra l'altro in alcuni di questi passaggi epocali l'ambito della documentazione cioè quella in cui sono stati prodotti e conservati i documenti risulta quasi sempre essere stata quella più tradizionalista più chiusa alle innovazioni sappiamo che nessuna di queste trasformazioni si è limitata a svolgere un ruolo esclusivamente tecnico nella conservazione organizzazione diffusione ricezione delle informazioni ma tutte hanno determinato importanti cambiamenti nelle culture nelle società dove si sono realizzate e in quelle che le hanno ereditate coinvolgendo anche il modo in cui gli esseri umani pensavano se stessi il mondo circostante e quello in cui interagivano fra loro per questo motivo il confronto tra coloro che esprimono un atteggiamento critico e a volte aristocratico nei confronti delle trasformazioni e coloro che ne hanno una visione ingenuamente ottimista diventa particolarmente aspro tuttavia a tal proposito mi è tornato in questi giorni ironicamente alla memoria quello che si potrebbe definire il paradosso di Tritemio Johannes Tritemius vissuto tra la fine del 400 e l'inizio del 500 era un abate benedettino bibliofilo storico letterario falsario crittografo e tante altre cose ancora ricordato dagli storici del libro soprattutto per un opuscolo intitolato De Laude Scriptorum che è stato pubblicato nel 1494 in cui che cosa sosteneva Tritemius sosteneva che i fragili e cattivi prodotti della macchina da stampa non avrebbero mai potuto eguagliare le magnifiche e durevoli creazioni della penna dell'abile scriva copista i prodotti della stampa secondo Tritemius erano pieni di errori le creazioni minuziosamente accurate dello scriva al contrario sarebbero vissute per sempre e il lavoro intenso e artigianale profuso in queste attività ha reso santi i loro creatori e infatti Tritemius ricorda un monaco che era morto dopo aver fatto per decenni lo scriva quando il suo corpo fu disotterrato le tre dita della mano destra che scrivevano erano ancora incorrotte sane intere un chiaro segno di santità nonostante tutte le sue avversioni per la stampa però Tritemio si è dimostrato particolarmente abile nello sfruttare anche economicamente la macchina da stampa per i propri lavori che sono stati tutti pubblicati da diversi stampatori tedeschi quindi il paradosso di Tritemio mi sembra essere vivo e vegeto anche tra noi detto questo passiamo al cuore dell'intervento cioè come accennavo una panoramica critica degli strumenti realizzati in Italia per la descrizione la gestione la pubblicazione sul web delle digitalizzazioni di documenti storici per questa panoramica ovviamente per motivi di spazio e di tempo devo concentrare l'attenzione su un aspetto un ambito e cioè su quei sistemi che hanno una rilevanza nazionale che hanno coinvolto prevalentemente archivi di Stato e soprintendenze archivistiche inizierei con il sistema archivistico nazionale il San è stato pubblicato nel dicembre del 2011 ed è stato concepito come il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali che erano disponibili su web da sistemi informativi banche dati strumenti di ricerca digitali sviluppate sia a livello nazionale regionale locale dallo Stato dalle regioni e da altri soggetti pubblici e privati in sostanza è uno strumento che ha aggregato descrizioni e oggetti digitali anche come vedremo indipendenti quindi sebbene non sia nato come una piattaforma per la gestione di oggetti digitali però al suo interno è stato creato uno spazio per la fruizione del patrimonio archivistico digitalizzato ad oggi sono dichiarati 616 progetti di digitalizzazione l'ultimo se non erro è stato pubblicato nell'anno 2021 per un totale di 1.174.000 oggetti digitali tuttavia per il San vanno fatte alcune precisazioni innanzitutto il numero complessivo dei progetti di digitalizzazione che risultano adesso presenti sono la somma dei singoli complessi archivistici provvisti di oggetti digitali con descrizioni ovviamente pertanto viene istituita una equivalenza forviante tra complesso archivistico e progetto di digitalizzazione questo non rappresenta la realtà dei fatti in quanto un progetto di digitalizzazione può articolarsi in uno o più complessi archivistici o in una parte di un complesso archivistico un esempio per tutti per il diplomatico dell'archivio di Stato di Firenze in origine concepito nell'ambito del progetto nazionale Imago 2 nel San risultano 88 progetti di digitalizzazione a fronte di un solo vero progetto di digitalizzazione inoltre per gli oggetti digitali il San nella maggioranza dei casi reindirizza la ricerca e la consultazione ai sistemi di origine e solo in minima parte rinvia ad oggetti digitali residenti nel sistema stesso pertanto anche in questo caso si comporta come uno strumento aggregatore di fonti indipendenti nonostante quindi l'intento iniziale di questo progetto San di ridurre la frammentazione dei punti di accesso alle informazioni e alla consultazione degli oggetti digitali dobbiamo dire che questa aspettativa non si è proprio realizzata nel senso che anzi ha un po' realizzato il contrario e considerato che da un certo momento in poi dopo l'avvio del progetto una serie di soggetti istituzionali che avevano dato vita al San compresi gli archivi di Stato ha percorso strade indipendenti e oserei ridire in alcuni casi quasi autonomiste per la fruizione sul web di oggetti digitali e progetti di digitalizzazione inoltre i dati i metadati degli oggetti digitali all'interno del San erano limitati all'essenziale ora il San allo stato attuale sopravvive un po' a se stesso sia per una serie di caratteristiche tecnologiche ormai desuete ma soprattutto per un impianto scientifico e istituzionale che ha fatto il suo tempo collegati al San ci sono una serie di portali tematici o siti tematici che rendono fruibili descrizioni archivistiche e documenti digitali relativi a specifici argomenti a specifiche tipologie documentarie questi portali presentano una serie di caratteristiche innanzitutto le descrizioni archivistiche che sono presenti nei portali tematici provengono o dal SAN o dal SIAS cioè il sistema informativo degli archivi di stato o dal SIUSA cioè dal sistema informativo unificato per le soprintendenze archivistiche selezionate su base tematica i materiali descrittivi di contesto presenti in questi portali tematici materiali anche divulgativi sono di tipo redazionale arricchiscono sì il contesto generale ma non risultano in relazione con le descrizioni archivistiche e inoltre le gallerie degli oggetti digitali selezionati sono basate su elementi tematici o su tipologie documentarie questi portali costituiscono a mio modestissimo parere una forma di decostruzione del concetto tradizionale di archivio e invece si avvicinano maggiormente a un concetto allargato di cui anche il professor Valacchi ha parlato poco fa di digital archive accanto a questi strumenti che ho appena citato c'è un altro strumento il sistema informativo degli archivi di stato cioè è un sistema informativo vero e proprio creato a partire inizialmente del 2003 in forma sperimentale e poi entrato nella sua fase veramente produttiva nel 2004 concepito come uno strumento di descrizioni archivistiche per gli archivi di stato ovviamente un sistema informativo quindi disponibile sul web e cosa succede nel 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 Sias scusate qui ci sono nella prima versione che è appunto quella creata a partire dal 2003 2004 anche oggetti digitali collegati a degli inventari all'interno del sistema informativo erano era presente un modulo inventari scollegato dal resto della descrizione archivistica e tramite questi moduli inventari c'era la possibilità di rendere disponibili la visualizzazione di oggetti digitali ok quindi era una modalità di agganciare singole immagini alle singole unità sostanzialmente archivistiche o documentarie ora il San e il Sias nel 2017 è stato migrato all'interno di una nuova banca dati anzi a partire già dal 2015 e poi in maniera più pressante nel 2017 che era la banca dati dell'altro sistema informativo ilistico nazionale cioè il Siusa quindi è stato migrato tutta la banca dati tutti i contesti tutti gli strumenti e le authority con una serie di correzioni e integrazioni delle descrizioni nel 2017 è stata anche aggiornata l'interfaccia web quindi che è quella che attualmente si rende visibile e quindi per un certo periodo di tempo il vecchio sistema e il nuovo sistema hanno funzionato insieme contestualmente fino a quando appunto nel 2019 nell'aprile del 2019 si è reso indispensabile chiudere il precedente sviluppo del Sias cioè il primo software per obsolescenza informatica e quindi è rimasta attiva soltanto la nuova versione ora che cosa succede nella nuova versione la nuova versione non rende più possibile il modulo non rende più possibile compilare il modulo inventario e quindi non è più possibile agganciarci dagli oggetti digitali tutta una certa quantità di inventari che erano presenti in Sias che avevano oggetti digitali collegati quindi a partire dal 2019 non era più consultabile cioè gli oggetti digitali non erano più fruibili da parte dell'utente e parliamo di 12 archivi di stato che avevano questi strumenti più una una sezione altro strumento messo a disposizione degli utenti da livello nazionale cioè il portale strumenti di ricerca online questo per gli inventari appunto per la pubblicazione degli strumenti di ricerca non solo inventari ovviamente era stato creato questo portale che è stato messo online pubblicamente nel settembre del 2019 costituisce una forma di evoluzione del modulo inventari che era stato sviluppato nel sistema SIUSA cioè quello delle superintendenze archivistiche a partire dal 2009 nel quale erano state messe tutta una serie di informazioni e inventari redatti con dei software di descrizione come Sesamo e Arianna quindi sono stati importati all'interno del portale strumenti di ricerca tutti questi inventari che precedentemente stavano in questo modulo inventari del SIUSA e comprese non solo quindi la parte dinamica ma anche una serie di inventari che erano soltanto in formato pdf quindi attualmente ci sono oltre 2000 strumenti di ricerca ovviamente nel portale strumenti di ricerca online non è possibile agganciare alle descrizioni gli oggetti digitali e quindi in quel caso non abbiamo la possibilità di far fruire le digitalizzazioni dei documenti storici descritte in questi inventari nel 2018 l'Istituto Centrale per gli Archivi ha avviato un progetto per realizzare uno strumento che permettesse ad archivi di Stato e soprintendenze archivistiche di sviluppare e gestire i propri progetti di digitalizzazione all'interno di una piattaforma comune si tratta di uno strumento in grado sia di recuperare il passato digitale per citare un volume di Stefano Vitali contrastando anche qui l'obsolescenza dei sistemi preesistenti e sia di offrire un servizio per la descrizione e la pubblicazione dei nuovi progetti di digitalizzazione tra gli obiettivi di questo progetto vanno sicuramente ricordati la costruzione di una struttura non monolitica ma aperta più capace di integrarsi con altri sistemi attraverso tracciati di interoperabilità l'uniformità e la funzionalità dell'impianto descrittivo la contestualizzazione archivistica dei complessi e l'accesso unificato per la consultazione e la ricerca di questo patrimonio archivistico digitalizzato risultato è appunto Archivio Digitale questa piattaforma pubblica che è stata resa disponibile sul web nel 2021 per inciso alla data della sua pubblicazione per tornare alla controversia tra apocalittici e integrati Archivio Digitale venne definito in un post su un social network bancarella digitale ma da approfondire il concetto archivistico sicuramente di bancarella digitale per quanto riguarda invece l'impianto descrittivo attualmente le informazioni dei livelli archivistici alti fondi serie sottoserie se risultano già presenti nel sistema degli archivi di Stato o in quello delle soprintendenze archivistiche che vengono condivise le informazioni altrimenti nel caso in cui non siano presenti all'interno di uno di questi due sistemi vengono inserite ex novo all'interno di Archivio Digitale i livelli bassi della descrizione cioè vale a dire quelle delle unità archivistiche e delle unità documentarie a cui vengono agganciati gli oggetti digitali vengono invece inseriti e descritte ex novo all'interno del nuovo sistema in un progetto come questo è ovvio che il focus è costituito a differenza dei sistemi informativi di cui abbiamo accennato dalle unità archivistiche e documentarie che richiedono maggiori attenzioni descrittive più dettagliate informazioni rispetto ai livelli superiori proprio perché sono lo strumento di aggancio degli oggetti digitali quindi complessi archivistici e oggetti digitali sono però sempre collegati ad una scheda progetto di digitalizzazione che ne descrive oltre al contesto archivistico i criteri le modalità di selezione del materiale che è stato digitalizzato segnalando la relazione qualitativa e quantitativa con l'intero patrimonio dell'archivio di conservazione affinché l'utente sia sempre informato in modo chiaro e trasparente sul materiale che può consultare su archivio digitale e quello che non essendo stato digitalizzato può consultare recandosi invece in archivio in una prima fase sono stati portati a termine recuperi di dati e progetti di digitalizzazione da sistemi preesistenti come per esempio il diplomatico dell'archivio di Stato di Firenze o dell'archivio di Stato di Lucca o gli inventari con gli oggetti digitali collegati che erano presenti nel vecchio Sias queste operazioni ovviamente puntavano a rendere di nuovo disponibili fruibili materiali che a causa della obsolescenza informatica dei sistemi di origine rischiamano di rimanere inaccessibili agli utenti in una seconda fase di sviluppo invece archivio digitale è stato adottato da diversi archivi di Stato per la gestione la descrizione e la pubblicazione di nuovi progetti di digitalizzazione ad oggi sono presenti 21 archivi di Stato e una sezione per un totale di 38 progetti di digitalizzazione e oltre un milione di oggetti digitali è utile ricordare che questo progetto di archivio digitale è stato sviluppato in un momento storico tra virgolette storico determinato cioè tra l'anno 2018 e l'anno 2020 anni nei quali sono venuti a maturazione almeno due importanti fenomeni per quanto riguarda i sistemi informativi archivistici nazionali cioè da una parte come ho cercato di descrivere poco sopra alcuni sistemi nazionali che avevano avuto tra i propri obiettivi anche quello di gestire e pubblicare oggetti digitali in quel lasso di tempo cominciavano a mostrare le loro criticità sia di tipo concettuale ma anche di tipo prestazionale l'altro fenomeno come cercherò invece di dire fra poco ha riguardato il disarticolato panorama dei sistemi sviluppati invece a livello territoriale per la fruizione dei progetti di digitalizzazione pertanto archivio digitale si è inserito in questo clima cioè candidandosi a rappresentare da una parte una soluzione alla gestione dei progetti di digitalizzazione ormai inattuabile nel nuovo Sias e inadeguata nel San dall'altra uno strumento comune agli archivi di Stato e alle superintendenze orientato al superamento del particolarismo digitale ed è proprio su questo concetto che voglio spendere alcune parole con questa espressione ho voluto indicare il panorama molto disarticolato a livello territoriale dei sistemi realizzati per la gestione e la pubblicazione degli oggetti digitali tra la seconda metà degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000 negli archivi di Stato sono stati avviati progetti finalizzati oltre alla informatizzazione delle descrizioni archivistiche alla digitalizzazione del patrimonio culturale per esempio nel 95 l'archivio di Stato di Torino ha avviato il progetto di digitalizzazione dei catasti storici inoltre questa stessa tipologia documentaria ha costituito il focus di specifici progetti come i Mago che ha coinvolto diversi istituti archivistici a livello nazionale gli archivi di Stato toscani hanno partecipato al progetto Castore cioè catasti storici regionali promosso dalla regione toscana nel 2004 che ha riguardato la riproduzione digitale ad alta risoluzione di oltre 12 mila mappe catastali ottocentesche mappe e non anche registri con la loro schedatura e la loro georeferenziazione se ne potrebbero ricordare molti altri ma è possibile restituire uno sguardo di insieme di questo panorama grazie a una serie di strumenti che hanno permesso la misurazione della disarticolazione territoriale si tratta di 4 censimenti che non vi sto qui a dettagliare che comunque hanno fornito dati molto chiari ed eloquenti sono censimenti che sono stati realizzati a partire già dal piano nazionale di digitalizzazione dell'anno 2017-2018 fino ad arrivare al 2023 con una indagine più dettagliata e più approfondita su 8 archivi di Stato che sono particolarmente grandi e soprattutto hanno un patrimonio digitale cospicuo comunque sia dall'insieme di questi dati raccolti appunto da questi 4 censimenti emergono delle caratteristiche molto specifiche del particolarismo digitale che è un fenomeno come adesso vedremo che va ben oltre quello che è stato chiamato anche il policentrismo della conservazione o il pluralismo della conservazione e cioè da una parte l'assenza di una governance lasciatemi utilizzare questa parola poco insomma apprezzata una governance complessiva per i vari progetti di digitalizzazione ognuno ha fatto quello che voleva come voleva e quando voleva una disomogeneità delle procedure di acquisizione delle immagini ma soprattutto dei tracciati di descrizione una moltiplicazione e spesso anche l'inadeguatezza dei software che sono stati impiegati e la loro anche incapacità di dialogare con altri sistemi in alcuni casi i dati non si tirano più fuori da questi sistemi una ridotta accessibilità ai dati e soprattutto prevalenza di strumenti che sono consultabili bene che vada in sala studio o addirittura per uso interno e questo ha prodotto una frammentazione o frantumazione dei punti di accesso alla consultazione quindi la situazione dei sistemi nazionali che ho cercato di descrivere sommariamente nella prima parte di questo intervento e quella della realtà territoriali hanno prodotto da una parte una moltiplicazione incontrollata di soluzioni software autoriti multiple soggetti produttori conservatori indici contesti vocabolari tesauri che sono in conflitto tra di loro se non proprio in contraddizione tra di loro oggetti digitali consultabili in ambienti diversi e in modalità non sempre funzionali relazioni assenti tra i vari sistemi moltiplicazione di modelli descrittivi non allineati spesso personalizzati ricerca che per gli utenti diventa dispersiva disorientante faticosa e una gestione economica ma anche onerosa perché tanti strumenti sul livello territoriale per una manutenzione correttiva adeguativa evolutiva significa spendere tanti soldi e poi anche qui una facile e una continua obsolescenza informatica di queste soluzioni oltre ad aver adesso c'è anche una obsolescenza delle descrizioni cioè della parte descrittiva queste analisi hanno condotto l'istituto centrale per gli archivi a ripensare innanzitutto l'architettura dei sistemi informativi nazionali fino ad ora ha prevalso un modello separato secondo cui la descrizione del patrimonio archivistico nazionale è stata suddivisa confinata in software differenti senza relazioni organiche tra loro pertanto si è reso necessario avviare un nuovo progetto con degli obiettivi che cercano puntano a superare questa situazione un progetto che tra l'altro è nella fase di realizzazione in cui si punta ad integrare quelli che sono i sistemi informativi archivistici attuali il Sias il Siusa il portale strumenti di ricerca archivio digitale in una nuova architettura informativa comune con la condivisione del modello dati e dei contenuti era anche una revisione critica dei modelli concettuali utilizzati in questi sistemi per cercare anche di allinearli in termini di entità in termini di relazioni una disponibilità di una rappresentazione archivistica più profonda rispetto ai sistemi informativi finora in uso perché vada fino ai livelli delle unità rendendo possibile la descrizione di tipo inventariale l'apertura anche ad altri strumenti e altri sistemi attraverso dei rinnovati tracciati di interoperabilità una gestione degli oggetti digitali collegati alle descrizioni tramite poi anche una teca multimediale comune adesso ne accenerò una fornitura di un servizio applicativo per la gestione della sala studio virtuale per gli archivi di Stato quindi gli archivi di Stato potranno gestire le prenotazioni di materiali per la consultazione richieste di rivoluzione ricerche da remoto e quant'altro e la capacità di alcogliere e recuperare i progetti di digitalizzazione che si sono sviluppati a livello territoriale proponendosi anche come una possibile soluzione a quel particolarismo digitale a cui appunto accennavo questo quindi progetto è un progetto che si colloca in un contesto più ampio che è quello dell'infrastruttura e servizi digitali per il patrimonio culturale acronimo IPAC dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale Digital Library cioè si tratta di condividere le informazioni archivistiche e le relative risorse digitali in una struttura software in cui confluiranno tutti i settori dei beni culturali pertanto è un sistema archivistico quello che noi stiamo cercando di riorganizzare che sarà in grado di dialogare in modo più ordinato e standardizzato con questa nuova infrastruttura collettiva ecco si è parlato di ecosistema MIC nel senso di insieme dei differenti sistemi descrittivi con interazioni reciproche che garantisce comunque la conservazione di una biodiversità di fondo dei domini scientifici per concludere in questo intervento ho voluto ho provato ad esaminare da un punto di vista specifico i sistemi informativi archivistici osservare come questi strumenti siano stati gestiti descritti pubblicati e abbiano trattato quindi e considerato i progetti di digitalizzazione che sono stati condotti in Italia a partire dalla seconda metà degli anni 90 del secolo scorso vuol dire comprendere il significato che la comunità archivistica ha attribuito alla digitalizzazione dei documenti storici in questi anni e quello che emerge dal mio punto di vista in maniera abbastanza decisa è che la digitalizzazione è stata concepita come una sorta di estensione della descrizione testuale oltre alla struttura gerarchica usata per rappresentare un archivio e alle parole usate per raccontare gli aspetti materiali formali e contenutistici dei documenti nei sistemi informativi generalisti sono state aggiunte anche le riproduzioni dei documenti descritti in questo modo è stato reso possibile controllare visivamente la corrispondenza tra descrizione e descritto una specie di ritorno all'antico quando invece che descrivere un archivio tramite i suoi elementi essenziali il professor Balacchi citava gli inventari venivano invece trascritti per intero i documenti o venivano surrogati tramite i regesti in modo dettagliato un misto quindi di antico e moderno ha guidato le esperienze italiane nell'ambito della pubblicazione dei documenti storici digitalizzati questo è un aspetto che differenzia profondamente gli archivi digitalizzati dagli archivi nativi digitali ma non è qui il luogo per approfondire questa tematica ad ogni modo tutto ciò ha avuto comunque una ricaduta positiva sulla ricerca storica permettendo una consultazione continua dei materiali creando le condizioni per relazioni e connessioni nuove allargando il pubblico degli utenti la critica principale che spesso viene mossa a queste pratiche di digitalizzazione è che i documenti trattati sono una parte di quelli che costituiscono un fondo o una serie archivistica e pertanto tendono a semplificare la complessa realtà di un insieme certo allo stato attuale generalmente è così molti documenti su supporti tradizionali non sono ancora stati digitalizzati e una significativa parte di essi non verrà probabilmente mai digitalizzata nemmeno nel futuro ma negli strumenti di cui si è parlato in precedenza è sempre dichiarato il rapporto tra il digitalizzato e il non digitalizzato sono rese palesi le motivazioni scientifiche e tecniche che sono la base di un progetto di digitalizzazione i documenti storici digitalizzati quindi non sono concepiti come un'alternativa all'archivio tra virgolette analogico ma costituiscono una forma di rappresentazione di esso io credo che per ritornare a quella terminologia insomma gli apocalittici possono stare abbastanza tranquilli nei circa 30 anni che abbiamo alle spalle durante i quali sono stati eseguiti diversi progetti di digitalizzazione di documentazione storica e sono stati anche pubblicati sul web gli archivi analogici non mi sembra che siano scomparsi i documenti fisici non sono stati nascosti o dimenticati non hanno subito l'adamnazio memori e soprattutto il nostro regime democratico mi pare che non abbia subito grandi contrattoli semmai forse è vero il contrario e cioè che la pubblicazione di documenti digitali ha permesso ad un pubblico più ampio di conoscere l'esistenza degli archivi e ha spinto anche alla consultazione della parte non digitalizzata e poi il digitale per finire non fa miracoli chi non sa muoversi criticamente nel mondo dell'informazione continuerà ad avere nel nuovo mondo digitale gli stessi problemi che incontrava già nel vecchio mondo cartaceo nel non saper distinguere il vero dal falso ma non solo anche nel non saper distinguere il verosimile dall'inverosimile il credibile dall'incredibile il documentato dal non documentato rischiando costantemente di essere e venire disinformato e manipolato grazie grazie mille al dottor Orzini io avrei milioni di spunti voglio capire se ci sono delle domande degli interventi dal pubblico o se riprendiamo tutto dopo ok allora io ci tengo solo a dire che le ultime parole che ha detto ritengo che siano le potrei sposare parola per parola sull'avvento sulla possibilità che ha dato la digitalizzazione degli archivi nel fruire le fonti storiche questo credo che sia un dato di grande importanza e che credo che rispetto alla capacità di muoversi all'interno di flussi formativi noi in quanto docenti formatori ricercatori si abbia un po' il compito se si vuole avere anche un ruolo sociale all'interno dell'ambiente sociale in cui viviamo non solo di produrre ricerca ma di insegnare anche a muoversi all'interno dei complessi processi informativi a partire proprio probabilmente dall'insegnare il metodo storico di ricerca analisi e critica delle fonti nelle scuole e gli archivi digitali ci consentono di confrontarsi con la fonte primaria come prima non era mai successo io credo che questo sia davvero una cosa molto importante per l'avvenire quindi grazie ancora e a questo punto chiedo se vogliamo fare 5 minuti 5 di pausa per rifiatare o se ce la sentiamo di partire direttamente con la seconda sessione che è lo storico digitale strumento e risorse 5 minuti di pausa ma 5 grazie bene benvenute allora a questa ultima sessione della mattinata e do il benvenuto appunto a Enrica Salvatori e a Gianpaolo Salice che ringrazio della loro presenza dei loro interventi che sicuramente saranno anche in questo caso molto ricchi presento brevemente Enrica Salvatori che appunto come tutti i relatori di questa giornata ha un curriculum lunghissimo e se lo potrà evocare nel corso della sua presentazione ne siamo contenti proprio solo per alcuni dati molto brevi Enrica Salvatori è professoressa associata di storia medievale all'Università di Pisa tutti i nostri mezzi insegna storia pubblica digitale e storia degli insediamenti tardo-antichi medievali e storia medievale ed esegesi delle fonti medievali assunto numerosi incarichi appunto tra le principali società di studi è stata nel direttivo appunto dell'IPH dal 2017 al 2023 e coordina numerosi progetti legati alla storia della lunigiana alla storia delle circolazioni mediterranei in epoca medievale e all'evoluzione dei comuni tra Italia e Provenza e la storia chiaramente della digital public history la ringrazio molto e le lascio la parola grazie allora grazie intanto Manfredi di avermi invitato e sono contenta di essere qui perché questo come altri eventi di questo genere è molto importante per il discorso che proverò a fare in questo discorso voi recepirete secondo me due cose assolutamente ininfluenti ma le recepirete una è che sono vecchia l'altra è che faccio la sub e vediamo un attimo in che cosa c'entrano in questo discorso che sono diciamo che a una certa età lo si vede dal fatto che vi ho messo qui quelle sono le mie basi cioè su quello che io ho imparato a fare la storica perché qui stiamo parlando di di storia digitale no di storia diciamo di come si fa la storia nel modo digitale e quindi io mi sono chiesta cioè non solo diciamo ho queste basi molto molto tradizionali come vedete dalle date ma ho in qualche maniera vissuto più volte l'entusiasmo e la delusione degli storici diciamo l'entusiasmo della sperimentazione e il rallentamento dell'uso dell'uso di alcuni strumenti diciamo che io ho saltato per regioni anagrafiche il primo innamoramento che è quello degli anni settanta però poi ne ho vissuti diversi e ancora adesso io sto vedendo un gap un rallentamento un problema in questo in questo percorso e quindi volevo analizzare con voi questo problema ma anche andando a proposizioni diciamo attuative cioè non semplicemente denunciare uno sfasamento di piani per poi sentire cosa cosa ne pensate quindi sono partita proprio da ho cercato banalmente di enunciare mi perdonino gli storici in maniera molto sintetica quelli che sono un po' i principi alcuni principi base del nostro lavoro e quindi al primo posto abbiamo sentito parlare del discorso della domanda qui già dai relatori che mi hanno preceduto diciamo la prima cosa che ci dobbiamo chiedere quando poi formuliamo una domanda di storia perché la stiamo formulando cioè cos'è che ci spinge a formulare questa domanda e il collegamento il discorso crociano sul fatto che ogni storia che noi ogni narrazione storica che noi elaboriamo è una storia contemporanea dopodiché passa chiaramente alla consapevolezza della soggettività dell'intenzionalità di ogni fonte che abbiamo di fronte e la loro conservazione il fatto che ci dobbiamo mettere a confronto con un palinzesto di storie appunto le narrazioni storiografiche e se non mi ridai lei di descrivere cosa io non mi ricordo più che cosa ho detto ecco bravo si può si vede perché da casa non riescono a vedere la non compare sai cosa dovresti condividere lo schermo e non la finestra secondo me anche adesso che abbiamo cambiato le modalità si vede bene ok poi dopodiché c'è tutto il lavoro di raccolta che teoricamente deve essere esaustivo e sappiamo benissimo che non lo è mai quindi abbiamo di conseguenza la necessità di fare una gerarchia delle fonti e fare un loro confronto dobbiamo poi buttarci nell'esegesi in tutto quello che l'esegesi comporta dopodiché comunichiamo quanto abbiamo elaborato questo diciamo è veramente molto in sintesi ecco in questa in questa sintesi io ho evidenziato quelle che io personalmente ritengo le fasi in cui gli strumenti mi viene anche un po' da ridere a parlare di nuove tecnologie perché non sono più nuove da tanto tempo sono solo in evoluzione quindi in cui il digitale e questo è il cuore del mio discorso non può deve entrare cioè entra deve entrare a far parte del metodo di lavoro no perché è proprio uno strumento che non possiamo evitare di dire cioè come non c'è no c'è e quindi deve in qualche maniera entrare nel nostro modo di fare storia con tutto quello che questo comporta ecco quindi io ho messo chiaramente queste sono visioni da storica vedete la diciamo che se nella diciamo la parte iniziale che è molto più complessa e diciamo difficilmente esemplificabile con esempi e con strumenti la diciamo ragionare sulla sull'intenzionalità delle fonti e sul palinsesto storiografico implica muoversi in banche date in database e gestire dati no di gestire banche dati ovviamente bibliografiche diciamo che in questa fase chiaramente rimango sempre sul necessario cioè la sua necessità di dotarsi di non tanto di software ma quanto del metodo che questi software ti consentono di di attuare c'è ma lo possiamo considerare medio come come obbligatorietà ok dopodiché c'è la parte il cuore no che è quello appunto di delle esegesi della comparazione della gerarchia della insomma di lavorare direttamente sulle fonti ecco io qui ho messo una stellina perché secondo me cioè lì siamo proprio tenuti a acquisire nella nostra metodologia determinate modalità di ricerca poi c'è tutta la parte su cui io non mi addentrerò perché ne ha parlato magnificamente Marcello l'ha veduto ma esiste c'è quella parte lì ogni tanto emergerà non ne parlo diffusamente un po' perché l'abbiamo già sentita e un po' perché mi avrebbe portato a allungare troppo il mio discorso ho preferito concentrarmi su un discorso di ricerca ma sono consapevole perfettamente consapevole che la ricerca da sola è solo una porzione e come abbiamo sentito sta diventando sempre minoritaria nell'equilibrio delle forze rispetto a quella che è il mestiere di storico quindi se dovessimo diciamo dire che cos'è la storia tradizionale e l'ambito della storia digitale la storia pubblica digitale io vedo in maniera molto grossolana questo insieme chiaramente assolutamente interconnesso che influenza l'uno con l'altro certamente questa è la mia opinione a questo punto non si può essere storici se non si è storici digitali proprio è questo che deve entrare nel capitolato ecco come se dovessimo scrivere il capitolato ma in un uso dello storico questo elemento ci deve entrare obbligatoriamente allora se ci deve entrare obbligatoriamente questo è diciamo un mio ragionamento su quello che dobbiamo imparare cioè su quello che gli studenti gli studiosi i ricercatori devono avere come base come possibile cioè è la stellina ok la stellina rossa delle slide precedenti in cui ci sono alcune cose che devono costituire la base la base proprio che ci consente anche di comunicare come comunità scientifica di valutare i lavori dei nostri colleghi di dare un giudizio effettivamente di qualità sulla ricerca storica e chiaramente ci sono tante cose spesso si lamenta il fatto che diciamo questo tipo di apprendimento e di aggiornamento è in continua evoluzione quindi difficile starci dietro la risposta è sì se si guarda ai prodotti cioè ai software no se si guarda invece ai bisogni e ai metodi che questi software in qualche maniera poi aggiornano e migliorano con l'andare del tempo infatti come vedete io qui non ho messo software non ho messo nomi di software ho messo sistemi metodi di 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 ricerca e a mio avviso per uno storico ripeto nell'ambito storico diciamo avere consapevolezza di database di sistemi informatici territoriali e di codifica del testo costituisce veramente una prima base di appoggio che consente un minimo di preparazione appunto di base che poi porta a eventuali scelte di specializzazione queste scelte però torna un attimo indietro queste scelte però non ci sono ora io ho delle slide su quello che non viene insegnato di questo nei corsi curricolari ma non mi voglio mettere a guardare con voi diciamo le classi di laurea ho fatto una slide su quello ma francamente è poco utile ok il problema è che queste cose non sono insegnate non sono sostanzialmente insegnate ok quindi cosa succede che nel rapporto tra corsa all'aggiornamento nelle nostre discipline ovviamente ne ho prese due potevo mettere anche l'archivistica ho cercato di diciamo concentrarmi sui due ambiti disciplinari che rispondevano meglio ai due metodi che io vedo come dire base che sono l'ambito database unito all'aspetto geografico quindi database puro database georeferenziato cioè i GIS e l'ambito invece più specificamente testuale cioè l'insieme dei metodi che ci consentono di analizzare in maniera computazionale il testo e quindi sto parlando di codifica dei testi XML text encoding e natural language processing tools ok cosa succede che l'archeologia ci ha superato di una serie di lunghezze ok se ne vogliamo poi discutere è ben chiaro il perché ma di fatto è già oltre magari non si è persa i ragionamenti su quanto l'informatica abbia mutato al mestiere di archeologo no no proprio l'informatica loro la usano punto ok è un po' l'informatica usata in maniera consapevole old style come diciamo proprio strumento puro strumento l'archeologo ha la trowel per scavare per scavare proprio per terra ma poi ha lo strumento GIS ha lo strumento database ha le conoscenze statistiche per poter effettivamente analizzare le sue fonti quelle che trova nel terreno poi ho messo il librino per indicare tutto ciò che attiene agli studi testuali dalla letteratura alla filologia lì secondo me ci stanno alla grande superando non sono ancora avanti come gli archeologi ma insomma sì perché nell'ambito delle digital humanities tutto ciò che attiene alla metodologia di analisi del testo sono sono avanti stanno galoppando in maniera molto forte per cui cosa succede che chi nell'ambito della letteratura e della filologia si è reso conto di queste cose qua e anche del diciamo del circolo virtuoso che questo implica per la disciplina stessa effettivamente ha una spinta ulteriore secondo me noi siamo invece in quella situazione cioè dovremmo usare entrambi ma non lo stiamo facendo quindi stiamo per il rischio è quello di cadere nel gap cioè di non o comunque di avere la sensazione di vivacchiare ma di fatto di essere indietro e da qui arriva il fatto che sono una sub ecco nella sub nella subacquea impari subito il fatto che siamo soggetti a un peso che ci porta giù e a una spinta che è quella di Archimede che ci porta in alto e il bravo subacqueo tiene l'assetto lì dove vuole stare cioè sta in equilibrio tra le due forze ecco quindi mi sono chiesta la storia chiaramente non deve stare in assetto deve comunque sapere dove ecco diciamo che deve stare in assetto ma sapere dove vuole andare cioè a che livello vuole stare in che fascia della navigazione si vuole si vuole mettere e queste sono secondo me le spinte che portano in basso cioè che trascinano verso la fossa delle Marianne e le spinte che invece tendono a portare verso l'alto non ho sette pure lì perché lì necessito di qualche spiegazione ovviamente non tutte le spinte che portano verso il basso sono negative come lo stesso lo è la pressione il peso diciamo quando sei sott'acqua perché appunto tu devi avere la tua dimensione di nuoto devi sapere dove voler andare a quale profondità voler essere ok diciamo che c'è molto il peso e questo secondo me in questo momento è veramente un peso del fatto che lo storico allo storico sia chiesta una narrazione sua cioè un lavoro da solo l'interpretazione dello storico è il frutto del suo genio unico e assoluto quindi di fatto che gli impedisce per molti motivi di lavorare di produrre un lavoro storiografico in team in gruppo cioè di avere un lavoro che non fa emergere la sua individualità il suo genio l'altro è l'elemento narrativo che però vedrete in qualche maniera può tornare come anche ha dimostrato Marcello Raveduto che diciamo un po' ci ci frena in un certo tipo di discorso quantitativo la storia poi alla fine si traduce in modalità narrative anche se poi uno si appoggia a dati quantitativi vi è poi il discorso della peculiarità della diversità della fonte storica che è vero non è un'invenzione dello storico la fonte storica sappiamo tutti che ha delle peculiarità proprie che la rendono spesso difficilmente comparabile anche con altre fonti storiche quindi diciamo questo crea dei problemi se si ragiona in un ambito in contesto digitale mi è sembrato utile ragionare però anche in termini di curve di apprendimento cioè spesso io sento l'obiezione anche di colleghi ben volenterosi che vorrebbero diciamo in qualche maniera aggiornarsi nell'ambito digitale che si sentono frenati dalla difficoltà di apprendere determinati strumenti e quindi diciamo tendono a rientrare in quell'ultima freccia che quella sia veramente totalmente negativa meno io la considero totalmente negativa che è quella della resistenza al cambiamento cioè del nastare nella nostra zona di conforto le spinte invece che ci potrebbero portare su o in qualche maniera ci sostengono sono appunto il fatto quella specie di realtà che ha disegnato Marcello del Raveduto cioè del fatto che siamo in un ambiente misto viviamo tutti in questo ambiente misto ormai quindi siamo in un ambiente in gran parte digitale questo digital turn ci spinge verso una realtà che è profondamente interconnessa e soprattutto ci spinge a ragionare in termini di avere una domanda storica e trovare la risposta non in un archivio ma diciamo in un ambiente digitale le digital humanities come disciplina crescente non sono diciamo sono stata per anni nel direttivo della UCD e questa è stata una grandissima palestra di crescita metodologica di comprensione degli strumenti la public history la interdisciplinarità e per me non di poco conto i principi FAIR che sono ormai abbastanza diffusi e usati e dato contesto normale per gli scienziati duri ma in realtà invece per noi sono una cosa ancora molto lontana invece sarebbero se abbracciati dalla comunità scientifica una delle chiavi di spinta molto forte che cosi sono i principi FAIR lo sapete è il fatto che i dati della ricerca devono essere recuperabili interoperabili e accessibili a tutti quindi dare trasparenza e accesso ai dati della ricerca allora se una delle una delle spinte verso il basso è la curva di apprendimento cioè il fatto che siano percepiti come difficili troppo diciamo complicati e faticosi gli metodi e gli strumenti del del digitale e queste vi ho messo diciamo una il set di quelle che sono considerate le principali curve di apprendimento ecco quello che si deve dire è che rispetto al passato quindi rispetto alle diverse fasi di questo innamoramento e disamoramento continuo tra storia e informatica tra storia e mondo digitale in questo momento c'è una una spinta a diciamo a migliorare questa a rendere più agevole questa curva di apprendimento che è data da il fatto che in moltissimi casi i software che consentono l'uso di determinati metodi sono sempre più facili se un tempo questo non era vero adesso comincia a essere molto più vero quindi il lavoro che è stato fatto e che fa parte anche delle digital humanities della human interface cioè del ragionare mettere al centro l'utente creare piattaforme sistemi e software che hanno al centro l'utente ha creato una progressiva facilità di uso di determinati strumenti questo è un dato di fatto che è quello che ci consente di usare anche app che diciamo restituiscono dei servizi che un tempo avrebbero diciamo richiesto delle conoscenze veramente elevate quindi è diminuita oggettivamente la difficoltà quello che invece non è aumentato invece è quello che potrebbe diciamo dare un po' il senso del cambiamento è il fatto che questi metodi non sono richiesti sono e continuano a essere assolutamente opzionali quindi non c'è la spinta della motivazione a mettersi lì a impararli e di questo siamo responsabili noi come comunità scientifica degli storici chiaramente sto parlando come ha detto Marcello ravveduto a una minoranza a una minoranza attiva a una minoranza che lotta però non è non possiamo pensare di ragionare sempre come minoranza e lavorare a livello sempre di luoghi di uscita delle nostre pubblicazioni o luoghi di uscita dei nostri pensieri in ambiti che in cui parliamo a persone che ci capiscono e che ci approvano questo funziona fino a un certo punto a un certo livello dopodiché di nuovo scatta il rallentamento che è derivato banalmente dal fatto che le aspettative alla lunga non sono soddisfatte quindi dove vedo diciamo l'aumento delle motivazioni vedete secondo me intanto diciamo questa spinta diciamo della curva di apprendimento verso il basso è diminuita l'aumento del peso che nella nostra vita di tutti i giorni ha il mondo digitale in sé il fatto che abbiamo una marea come abbiamo sentito prima di fonti digitalizzate o comunque di archivi che si stanno strutturando per dare determinati livello di informazioni cioè non le fonti livelli di informazioni livelli informativi anche il discorso della narrazione ecco vi farei natare che la narrazione il suo ruolo è ribaltato a questo punto e questo l'abbiamo proprio sentito in intervello di Roveduto cioè la necessità di comunicare e di lavorare nell'ambito della public history per esempio chi lavora nell'ambito della public history lavora in maniera assolutamente necessaria nella digital public history perché non si può più oggi fare narrazione se non si è consapevoli del modo in cui funzionano i media e di conseguenza anche l'elemento narrativo che un tempo era assolutamente limitato alla scrittura del saggio scientifico alla monografia o all'intervento nel convegno adesso si è arricchito e moltiplicato in maniera geometrica al punto che effettivamente il modo tradizionale è quello si minoritario è quello si entrato in una sorta di riserva indiana mentre quello che è maggioritario è il resto a patto che però lo spazio che la narrazione che ti consente la tipologia di narrazione che ti consente il mondo digitale sia occupato da persone che fanno la storia se se lasci il vuoto ovviamente il vuoto viene occupato da altri i principi fair vedete che vi ho aumentato moltissimo la freccia a patto che la comunità scientifica lo richieda però questo è la chiave di richiedere che queste cose siano diciamo messe in conto ecco perché diciamo la prima cosa che io penso è che il digital turn e la spinta delle digital humanities sia diciamo sia vada in questa direzione nel senso che è quella che sostanzialmente dice allo storico che non solo non è necessario che lavori da solo ma forse non è nemmeno bene che lavori da solo ok cioè se pensate bene questa è una cosa ossodata da anni nel mondo delle scienze chiamiamole dure nessuno nessuno si aspetta che una pubblicazione sul vaccino sia firmata da una persona nessuna non vedo perché dobbiamo farlo noi ed è possibile questo e questo non toglie la libertà di interpretazione dell'individuo è semplicemente modi possibili altri di fare la ricerca quindi le digitaliste e anche la digital public history in qualche maniera costringono costringono cioè spingono in maniera compulsiva e specifica a fare questo cambiamento virtuoso lo richiedono perché perché non riuscite a farlo un progetto di public history di digital public history da solo proprio non ce la fate è materialmente impossibile fare che una persona lo faccia una persona sola quindi trasforma una necessità in una virtù che è necessaria ok l'altra cosa è che bisogna secondo me cominciare a cassare a punire cioè a considerare non buoni prodotti storiografici quelli che non consentono il controllo dei dati della ricerca cioè lo devo considerare un dato negativo quindi devo premiare invece quelli che lo consentono e io ho parlato con moltissimi dottorandi in storia in occasioni tradizionalissime persone che magari avevano speso anni nella catalogazione di fonti di un particolare fondo archivistico nel particolare monastero e via di lì e quando gli chiedevo ma questi dati li hai messi a disposizione e no come no e sì cioè non ti fai rubare nulla metti a disposizione devi farlo perché sennò io come faccio a controllare che quello che hai fatto va bene e come fa la ricerca storica a progredire un attimo finisco guardi poi gliela lascio ho quasi finito ma questo è una è diciamo una cosa quindi secondo me bisogna proprio muoversi per la per la redazione di un nuovo capitolato proprio come quando si costruisce una casa si dice quello che è necessario fare certamente bisogna muoversi in ambito degli insegnamenti quindi chiedere che determinate queste cose siano insegnate a livello base a livello magistrale e si deve andare a lavorare nella revisione attenta dei prodotti della ricerca storica in tutte le zone di pubblicazione non quelle della UCD non in pubblicazioni che sappiamo già favorevoli alla digital public history in tutte le sedi bisogna chiedere che i dati della ricerca siano depositati e pubblici bisogna che sia ben chiarita nel testo del prodotto storiografico la distinzione tra fonti dati e metadati bisogna spingere a premiare i lavori fatti a più mani e per esempio invece penalizzare se io faccio una ricerca di storia non possono considerare la spazio perché la storia è unione di spazio e tempo quindi se faccio un lavoro di storia e non creo un sistema che mi fa vedere i valori che sto esaminando nello spazio di riferimento non sto facendo bene il mio mestiere ok non lo sto facendo bene e chiaramente anche quando diamo dei dati e lavoriamo anche su fonti che consentono un certo grado di campionamento e di studio statistico numerico dobbiamo avere presenti e ben chiariti e trasparenti i principi del campionamento e del calcolo e delle confronti che stiamo facendo questo dovrebbe essere già vero a partire dalla rivoluzione della nuova l'istuara e delle fonti seriali e della storia numerica ma non è stato mai veramente applicato quindi queste diciamo io credo che le spinte ci sono però non è diciamo prima di ragionare in maniera deprimente sulle questioni di classi di lauree e settori disciplinari che sappiamo essere una gabbia vera bisogna noi tutti muoversi in quella direzione cioè avviare una cioè far forti di queste spinte per promuovere effettivamente una ricerca storica che abbia questi minimi requisiti di qualità grazie lasciamo le domande solo per l'ultima parte così facciamo dibattito insieme e non rubiamo tempo perché poi alle 13.30 abbiamo un ulteriore pausa grazie infinite per questa lezione di metodo e per questa riflessione sul metodo e lascio la parola adesso a Gianpaolo Salice professore associato di storia moderna dell'università di Cagliari ragazzi insegna storia dell'Europa moderna storia del Mediterraneo bene vuole sì ok ok Grazie a tutti. 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 Non si ha quasi mai la capacità di ordinare le informazioni che si generano nell'esercizio di queste funzioni, mi verrebbe da dire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.